Sottatrici di Radio Articolo 1 alle 14.18 di martedì 14 maggio 2019 prendiamo nuovamente la linea dal polo universitario di San Giovanni a Teduccio a Napoli dove sta cominciando la seconda sessione del convegno auto al Bivio organizzato dalla FIOM nazionale insieme alla Fondazione Sabatini e alla Fondazione di Vittorio. In questo momento sta presiedendo Gianni Rinaldini della Fondazione Sabatini. Lo ascoltiamo in diretta a Radio Articolo 1. Voglio segnalare il tempo dei compagni e delle compagne che devono intervenire. Il primo intervento previsto è quello di Bubbico relativo alle condizioni di lavoro rispetto al lavoro che abbiamo svolto sui questionarii, la raccolta dei dati, l'incrocio dei dati da cui esce un quadro generale. 20 minuti, poi se hai un po' di mal di gola... No, se ho mal di gola, sicuramente sto dentro i 20 minuti, se riesco finisco anche prima. Un saluto a tutti naturalmente, anche perché molti dei dati che potrei qui elencarvi oggi e commentare in realtà sono stati già diffusi in diverse occasioni, prima del congresso, in altre circostanze a Bologna lo scorso anno, quindi ci sono i materiali disponibili, quindi su questo non mi dilungherò molto, anche se qualche dato forse è bene ricordarlo, molto brevemente. Tra l'altro colgo qui l'occasione anche per ringraziare i due ricercatori della Fondazione di Vittorio, che in particolare hanno collaborato nella stesura della parte della ricerca che attiene all'analisi dei questionarii, che sono Daniele Dinunzio e Giuliano Ferrucci. Detto questo, devo dirvi la verità, dopo aver sentito gli interventi della mattinata, quello di Garibaldo, ma anche tutti gli altri interventi da parte dei delegati degli stabilimenti, ti rendi conto che le cose che stai per dire sono sì importanti, però nella prospettiva di un gruppo industriale che è FCA, che è messo come è messo, il rischio è di parlare di qualcosa che rischia di essere molto relativo, considerando il contesto dell'industria automobilistica italiana. Detto questo, quindi, comunque, come vi dicevo, è necessario che io vi dia qualche dato. Nello specifico, per comodità di esposizione, ho estratto i dati che fanno riferimento soltanto allo stabilimento di Pomigliano, comparandoli con una media rispetto al resto degli stabilimenti, quindi all'intero campione della nostra ricerca. Allora, di che cosa stiamo parlando in altri termini? Di un'indagine che, come sapete, ha riguardato 55 stabilimenti, circa 10.000 questionari raccolti, abbiamo lavorato su 7.800 questionari. Qualche difficoltà con il microfono, adesso Davide Bubbico dell'Università di Salerno sta provando, ecco qua, di nuovo in diretta, radioarticolo 1. C'è un dato che voglio dire, che la platea dei nostri rispondenti è composta dal 46% di lavoratori iscritti al sindacato, ma di questi soltanto il 21% sono iscritti alla FIOM. Che cosa significa in altri termini? Che il 25% dei nostri rispondenti è composto da iscritti alle altre organizzazioni sindacali. Dico questo non tanto per mettere un timbro di veridicità rispetto alle risultanze dell'indagine, ma per dire che il questionario, essendo un questionario di massa, è riuscito a coinvolgere una platea molto ampia di lavoratori e la cosa che in qualche modo ci conforta è che su una domanda chiave del questionario, che era come giudichi le tue condizioni di lavoro nel corso degli ultimi anni, devo dire che tutti, indipendentemente dall'appartenenza alla FIOM, piuttosto che da un'altra organizzazione sindacale, hanno espresso un giudizio negativo intorno al 60%, quindi anche tra gli iscritti alle altre organizzazioni sindacali, rispetto a una variazione negativa della condizione di lavoro. Questo che cosa dice? Dice che quando i lavoratori delle altre organizzazioni sindacali hanno compilato, diciamo così, liberamente e autonomamente questo questionario, sono stati, come dire, in grado probabilmente di esporre un punto di vista molto più libero. I temi che vorrei qui trattare naturalmente sono tanti, ma ne tratterò soltanto alcuni, però cosa voglio dire? Che un elemento che voglio aggiungere alla riflessione, anche rispetto alle cose che sono state dette oggi, è che io credo che sia molto sintomatico. Io ho fatto diverse interviste qualitative nell'ambito di questa ricerca, ne abbiamo fatte 160 su 16 stabilimenti, compreso quello di Pomigliano, ho imputato molti dei dati del questionario, ho imputato anche molte di quelle dichiarazioni autonome che i lavoratori rilasciavano a margine della compilazione del questionario e che prima Dino Miniscalchi ha richiamato, e l'impressione che io ne ho ricavato, anche poi incontrando in questi anni i lavoratori di diversi stabilimenti, è che sostanzialmente i dipendenti di questo gruppo vengono da anni di scoramento, di sfiducia, sostanzialmente di rassegnazione. Ecco, se devo dirvi qual è il primo dato di questa ricerca, al dirà delle risposte che hanno offerto nel questionario, nelle interviste qualitative, il dato che io ne traggo è di una situazione in cui i dipendenti di un grande gruppo industriale sono in qualche modo ormai, come dire, assuefatti all'idea che questa azienda in qualche modo vive continuamente di crisi, vive continuamente di promesse, se pensiamo ai piani industriali che sono stati programmati in questi anni, rispetto ad una realtà concreta che è molto diversa. Per quanto riguarda Pomigliano, e vengo dunque al dato dello stabilimento, per Pomigliano abbiamo lavorato su 504 questionarii, ne abbiamo raccolti anni circa 650, qui riscontriamo un livello di scolarizzazione più alto rispetto alla media del campione, ovvero il 63% sono diplomati rispetto al 46% del campione nazionale, più giovani, i nostri rispondenti hanno un'unità media di 41 anni rispetto ai 46% del campione generale. Vengo ai risultati, diciamo così, credo quelli più utili per quanto riguarda la nostra discussione, ma nulla di nuovo rispetto a quanto i delegati di stabilimento già sanno. I nostri rispondenti, circa 400 su 500, provengono, sono del montaggio, sono a detti linea. E la criticità maggiore che emerge rispetto alle condizioni di lavoro di questo stabilimento, ma in realtà potrebbe essere anche lo stabilimento di Melfi, piuttosto che di Cassino, piuttosto che della Seve, è il carico di lavoro. Ad esempio, noi chiedevamo su una scala di punteggio da 1 a 10, di indicare qual era la loro valutazione del carico di lavoro. I punteggi che andavano da 1 a 3 indicavano un giudizio estremamente critico. Bene, il 60% dei lavoratori di Pomigliano, rispetto ad una media del 40%, indica il carico di lavoro come uno dei problemi principali della loro condizione di lavoro. Così si sono espressi criticamente su altri aspetti che sono le attività formative, i rapporti con i responsabili, sulla stessa nocività e sul tema dell'inquadramento professionale. Come vi dicevo prima, questi lavoratori, come nella media dell'intero nostro campione, rispondono che le condizioni di lavoro sono peggiorate negli ultimi anni. Il 63% contro una media del 59,7%. Ma noi chiedevamo poi perché ritiene che le sue condizioni di lavoro sono peggiorate. Ecco, nuovamente, in questo caso, il carico di lavoro e i ritmi di lavoro ritornano ad essere i fattori che maggiormente incidono negativamente su questa valutazione. Il 75,6%, a proposito del carico di lavoro, lo indica come fattore principale contro una media del 57,3%. Il 65,8% contro una media del 46%. Ovviamente stiamo parlando di uno stabilimento, veniva detto prima, che ha quelle cadenze, ormai di circa 450 vetture giorno, turno, scusate, con un numero di addetti che non era quello che è stato dichiarato dall'azienda inizialmente. Quindi stiamo discutendo, diciamo, di uno di quegli stabilimenti che ha conosciuto volumi produttivi abbastanza significativi. Questo dato rispetto alla criticità delle condizioni di lavoro si riscontra anche rispetto ad altri aspetti. che è indisponibilità del cartellino per azione, non conoscenza dei tempi ciclo, tempi poco sostenibili, aumento della saturazione, assenza di rotazione anche quando questo è prevista. Un'altra domanda chiave del nostro questionario era se le pause assegnate erano sufficienti rispetto al carico di lavoro. mentre il 55% del nostro campione, ovvero della totalità dei 55 stabilimenti, dice che non sono sufficienti nel 55% dei casi, nel caso di Pomigliano questo valore sale all'80%. Ma naturalmente questo è comprensibile perché, come vi dicevo prima, la maggior parte dei rispondenti sono delle attività del montaggio, o meglio, addetti linea dell'unità del montaggio. Leggendo poi anche le interviste qualitative, il tema del CCSL, dell'attività svolta dall'RSA all'interno dello stabilimento, io credo che qui comprendiamo esattamente che cosa ha significato non firmare quell'accordo, avere solo 8 ore di disponibilità al mese. Che cosa significa questo? Io credo che l'azienda era veramente preoccupata di non avere i responsabili, gli RSA della FIOM, con un numero di ore congrue, per fare tutte le verifiche sulle postazioni, sulla presenza dei cartellini, sulle saturazioni, perché quello che noi abbiamo raccolto in tutte le interviste qualitative, in tutti gli stabilimenti, è che questa è la criticità maggiore che oggi l'RSA ha, con sole 8 ore, a disposizione. Considerato che appunto gli altri delegati sono completamente assenti. È stato citato Antonio De Luca da Michele stamattina, io lo cito di nuovo perché in questi dati mi rifornisce anche lui ogni tanto, ed è interessante che lui dice guarda Davide, questo me lo diceva qualche tempo fa, su mille addetti al montaggio, togli 150 team leader, togli altri 48 delegati delle altre organizzazioni sindacali, arriviamo praticamente ad 800 lavoratori, che sono di fatto presenti in impostazione, quindi a circa 400 per turno, sai qual è la cadenza della linea, quindi ti rendi conto quel dato sull'intensità della prestazione, sull'aumento dei ritmi di lavoro, che cosa ha significato, soprattutto poi sulla base di quel passaggio importante che va dalle famose 350 vetture dichiarate dal piano industriale, ovvero 1.050 per giorno, alle 900 che sono state raggiunte soltanto con due turni giornalieri. Altro pezzo, la questione degli infortuni. noi nel questionario chiedevamo se si erano verificati degli infortuni negli ultimi tre anni e in un periodo precedente. In realtà che cosa ci interessava capire? Ci interessava capire, soprattutto se questi infortuni erano alla fine denunciati, regolarmente, o no. Anche lo stabilimento di Pomigliano conferma il dato del campione più in generale, cioè qual è il dato, e vado con come dire, racchiudo immediatamente l'informazione, che negli ultimi anni è aumentata significativamente la probabilità che gli infortuni non siano denunciati come tali, ma che siano trasformati in permessi, cambi di postazione, ferie o altre cose. Se per chi ha subito un infortunio in un periodo precedente ai tre anni, questa probabilità era solo del 20%, per chi l'ha subita negli ultimi tre anni questa probabilità è aumentata, si è raddoppiata. Quindi praticamente noi oggi abbiamo una situazione nella quale quattro infortuni, possiamo stimare, quattro infortuni su dieci non sono di fatto denunciati come tali. Nuovamente nel caso di Pomigliano, quali sono i motivi del maggior rischio infortunistico? Ritornano di nuovo più che nella media del campione, la riduzione dei tempi di lavoro, 46% contro una media del 30%, la pressione dei responsabili, il 29% contro una media del 26%. E che cosa riscontriamo anche per Pomigliano? Una maggiore frequenza a recarsi in infermeria, il 43% dichiara di recarsi uno o più volte al mese contro una media del 32%, perché principalmente per disturbi muscoloscheletrici, il 70% contro una media del 50%. L'inchiesta ci ha consentito di avere finalmente qualche dato sui lavoratori con ridotte capacità lavorative. Qui devo dire però per la particolare organizzazione dello stabilimento di Pomigliano che i lavoratori con RCL temporaneo o permanente sono risultati tra i nostri rispondenti solo il 18% rispetto al 28% che abbiamo rilevato nell'intero campione ma se consideriamo anche quelli che ce l'hanno ma non la dichiarano o lo hanno avuto in passato aggiungiamo qui altri un altro 14%. Perché dico questo? Perché sappiamo che nel caso di Pomigliano i lavoratori con ridotte capacità lavorative sono stati dislocati molto spesso in aree diverse da quelli del montaggio e quindi sono lavoratori che non abbiamo intercettato immediatamente nella fase nella fase di rilevazione del dato ultimo dato sulla questione del WCM anche qui oggi si è accennato al modello WCM il caso di Pomigliano è particolarmente significativo perché come sapete Pomigliano è medaglia d'oro è come dire lo stabilimento campione tra virgolette da questo punto di vista e qui voglio limitarmi ad un dato noi che cosa abbiamo riscontrato nella generalità della ricerca che c'è una parte di lavoratori che non sanno circa il 15-20% che non sanno che cos'è di fatto il WCM in realtà quelli che hanno una conoscenza che potremmo dichiarare diciamo così discreta sono tra il 50 e il 60% e nella media del nostro campione è così nel caso di Pomigliano ma soprattutto quando abbiamo chiesto a questi lavoratori se questo sia applicato parzialmente o totalmente che cosa emerge che nella media della nostra ricerca il 33% dice che è applicato totalmente o parzialmente nel caso di Pomigliano questa percentuale sale al 40% non è un dato che io trovo come dire discordante per la premessa che vi ho fatto prima naturalmente come potete immaginare è lo stabilimento che deve essere portato sul palmo della mano rispetto all'applicazione di questo modello tuttavia anche in questo caso vi è un 35% di lavoratori di Pomigliano che indicano la presenza del WCM soltanto in presenza degli audit contro una media del 42% per il resto del campione quindi come dire rimane un elemento di ambiguità rispetto all'applicazione di questo modello fermo restando che un altro 25% di rispondenti di Pomigliano al pari della media nazionale dice che questo è applicato in fase alterne o non trova applicazione qual è il dato che forse mi ha stupito non stupito diciamo che credo che sia più importante evidenziare rispetto a quello al valore medio che emerge dal campione noi chiedevamo il WCM ha comportato più operazioni sulla singola postazione se nella media del nostro campione questo valore corrisponde solo al 35% cioè i lavoratori ci dicono nel 35% dei casi di sì nel caso di Pomigliano questo valore sale al 46% e credo che questo dato sia tra l'altro coerente rispetto alla risposta che fornivano prima aumento dei ritmi e aumento dell'intensità e aumento del carico di lavoro soprattutto io ho sostanzialmente diciamo così concluso anche se scusate se sono stato molto rapido e sono abbondantemente entro i 20 minuti voglio soltanto leggervi brevemente finisco perché io la trovo abbastanza diciamo così sintetizza secondo me un po' l'ambivalenza del comportamento dell'azienda di questi anni e qui risponde un lavoratore della UT3 del montaggio di Pomigliano vi leggo brevemente questa sua risposta quando io gli chiedevo delle principali trasformazioni che sono avvenute rispetto a quando lui è entrato nello stabilimento e rispetto a quando vi è rientrato poi con la nuova Panda e dice attualmente non lavoro nella stessa postazione che facevo nel 2004 ma ora chiaramente vedo che come allora lavoro a 90 gradi ancora oggi piegato come nel 2017 miglioramenti sicuramente ci sono stati a livello di organizzazione del posto di lavoro è indubbio perché prima c'era una grande confusione mentre ora c'è più ordine in fabbrica sulle linee c'è anche più pulizia perché è previsto anche questo effettivamente c'è la figura del team leader che avendo un dominio di 7 persone circa in media è più presente rispetto a prima questo significa avere alla fine un prodotto di qualità perché se hai un problema subito il team leader interviene nel risolverlo poi già so che qui qualcuno potrebbe dire non è sempre così va bene però diciamo così è la testimonianza di un lavoratore che tra l'altro si è avvicinato soltanto ultimamente alla FIOM e quindi secondo me questa sua testimonianza ha una valenza ancora più significativa ma la cosa che in qualche modo voglio portare alla vostra attenzione che un po' credo diciamo per me sintetizza emblematicamente che cosa è accaduto dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro è quello che lui dice alla fine però dal punto di vista del lavoratore si stava meglio come si dice quando si stava peggio perché pure nel 2004 stava a 90 gradi ma non tornavo a casa distrutto e massacrato come torno oggi dopo aver iniziato a lavorare con la panda cosa voglio dire con questo sicuramente i volumi della 147 su cui lui lavorava nel 2004 sono volumi un po' differenti da quelli della panda però la cosa interessante questo lavoratore nel frattempo ha qualche anno in più naturalmente bisogna considerare questo aspetto ma la sensazione che ho riscontrato non solo in questo passaggio ma in altre interviste è che lavoratori che hanno continuato a lavorare sulle stesse postazioni in presenza dei nuovi modelli quello che oggi registrano un appesantimento significativo delle condizioni di lavoro per le cose che noi sappiamo perché sono cambiati i sistemi di rifornimento si sono abbattuti i tempi cosiddetti morti e passivi il numero di operazioni da compiere è significativamente aumentato così come sono aumentate le saturazioni ed è significativo che questo lavoratore dica a differenza di ieri dove pure stavo piegato continuamente oggi quando ritorno a casa mi sento significativamente più stanco grazie e buon proseguimento se Rosario non mi ha fregato il foglio dunque Termoli Termoli da Mario Salve a tutti da Mario RSA alla FCA di Termoli io vorrei partire dai temi da tre domande fatte dal questionario e le relative risposte e cioè la domanda se su formazione carichi di lavoro e inquadramento come è migliorata la situazione in FCA ebbene la somma delle risposte rispetto a questi tre temi per il 50% è molto peggiorata per il 40% non molto negativo cioè a dire per il 90% su questi tre temi cioè su formazione carichi di lavoro e inquadramento la situazione è negativa allora partendo da questo vorrei sviluppare il tema della produttività e dopo perché hanno risposto così allora la produttività più o meno una bestia nel mondo attuale dove si deve fare di tutto per aumentare i margini vista l'elevata concorrenza mondiale allora è una vera e propria battaglia allora la produttività in termini come dire tecnici aziendali che cos'è è l'aumento di produzione nell'unità di tempo in un'ora devo fare più pezzi questo per fare che cosa per ridurre il costo dell'unità di prodotto benissimo rispetto a questo come si muovono gli altri e come si muove l'Italia la FCA tutti sappiamo che in Italia e in FCA la produttività è di circa il 30% in meno gli altri come si muovono che cosa fanno o cosa si deve fare si dovrebbe fare per aumentare la produttività diciamo prenderla più umana possibile cioè quindi intervenire sull'innovazione tecnologica aumentare l'efficienza degli impianti ridurre i costi di produzione spostare il focus in management deve sforzarsi di spostare il focus dal prodotto al processo bisogna capire il processo le difettosità le sacche i colli di bottiglia per poter intervenire anziché la prodotta è colpa del fornitore colpa è colpa è colpa e poi un'altra teoria un tema del WCM che si parlava prima e cioè il Kaizen cioè il miglioramento dal basso questo è quello che avviene altrove quando si cerca di umanizzare questa come dire bestia della produttività qual è in Italia come dicevo e in FCA tutto questo non avviene ma qual è la causa allora abbiamo impianti obsoleti dappertutto quasi dappertutto negli stabilimenti Fiat non fanno investimenti da decenni avranno poi mettono una scusa tanti motivi perché la situazione è incerta bla 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 su questo no uno potrebbe dire l'abbiamo detto mille volte il famoso piano industriale di Marchionne la piena occupazione dal 2014 al 2018 dal 2018 al 2022 dal 2022 sarà sempre reiterato questo piano industriale e la piena occupazione quindi impianti obsoleti scarsa investimenti scarsa formazione del personale organico sottodimensionati e io ci aggiungo che forse il peggiore di tutti dirigenti cioè che ha il potere decisionale dirigenti aziendali assolutamente inadeguati a come dire gestire un processo produttivo perché loro pensano che efficienziare gli impianti pensano di intervenire come allora se queste sono la causa la Fiat come la FCA scusate come ha pensato di intervenire anziché con ciò che dicevo prima aumenta la produttività con gli investimenti ha pensato di intervenire con l'inganno di CCSL su quale questione allora con l'esigibilità contrattuale nel CCSL sappiamo che con la questione dell'esigibilità contrattuale avviene che cosa che abbiamo firmato un contratto l'abbiamo detto tante volte tu ti fermi tu operaio tu lavoratore tu sindacato firmatario ti fermi perché ce ne sono delle questioni io ti penalizzo perché mi stai arregando un danno economico quindi visto che hai fermato un contratto sei obbligato a rispettarlo in tutte le sue forme io dico con questo con il CCSL in questo modo ci hanno tolto l'articolo 18 della legge 300 contemporaneamente la Fiat la FCA è riuscita a togliere anche l'articolo 17 della legge 300 che vieta alle aziende di costituirsi i sindacati di comodo e l'intera legge 300 perché dal momento in cui tu con la questione dell'esigibilità mi vieti ogni attività sindacale di fatto hai eliminato hai eliminato la legge 300 a questo segue sempre secondo la logica FCA produrre di più con meno quindi sono assatanati da questo principio per fare per fare efficienza devono riprodurre con meno ma con quali meno meno salari meno formazione professionale meno diritti alla fine per quanto riguarda i lavoratori e l'altro tema molto importante stringo cercando di stringere al massimo l'altro tema molto importante che dimostra il degrado delle nostre aziende tutto ciò che riguarda il significato è la teoria del che è anche una teoria del WCM ma la FIAT la FCA la adopera in maniera impropria la teoria del lavoro o attività non valore aggiunto allora su questo si sta maggiormente su questo è che sta peggiorando su questa filosofia e questo principio che stanno peggiorando le situazioni all'interno dei nostri stabilimenti attività a non valore aggiunto quali sono come dire ispezionare regolare fare manutenzione tutte queste attività cioè tutte quelle attività indirette o di servizi che non servono che non mi fanno produrre sono ritenute tutte attività a non valore ragioni quindi da cercare di eliminare o ridurre il più possibile allora se io nel mio impianto non faccio più manutenzione né preventiva né predettiva non faccio niente di tutto questo vado sempre più a peggiorare il mio impianto e se non mi focalizzo come dicevo prima sul processo ma mi focalizzo sul prodotto come stanno facendo quei guasti e quei ritardi e quelle anomalie e quelle perdite di produzione io lo addosso al prodotto e non al processo cioè lo addosso a quelle aziende fornitrici di prodotto fiat e quindi vado a colpire direttamente indirettamente le piccole aziende fornitrici di fiat quindi hanno aggirato quello che dicevo prima i dirigenti non sono adeguati non sono adeguati a gestire un processo produttivo quindi qual è la questione è che il CCSL è uguale a meno diritti fra qualche giorno votiamo all'europea parliamo di tutte queste questioni non solo moneta unica ma anche diritti bene dal momento in cui diciamo questo tutti uguali diritti succede che noi in Italia abbiamo un'azienda metalmeccanica che si fa un proprio contratto infischiandosi di tutti gli altri per cui io 15 anni fa avevo un lavoratore a fianco a me che lavorava ma di una ditta esterna io cercavo di rimenticare per lui uguali diritti ai miei uguali salari ai miei succede che 15 anni dopo io col CCSL lui col CCNL lui ha più di me questo è il paradosso di un dipendente FCA oggi è grave allora è chiaro che ok l'unità sindacale è un sindacato unico è vero che se no da soli dove andiamo come dice Michele come dice Francesca ok però in Fiat basta con questa ipocrisia di Fim e Wilm loro devono dire c'è tutto questo tutto ciò che dice il CCSL ma veramente a voi non vi scalfisce di niente allora a me mi piacerebbe dirgli allo sciopero unitario ma scusa ma la Fiat vive in un in un pianeta a sé stante o è il momento di dirgli qualche cosa è la politica il ministero del lavoro e dello sviluppo economico dal momento in cui ho un'azienda una multinazionale che mi viene a chiedere io gli risponderei visto tutte le promesse beh amico se tu vuoi le cose che vuoi che cerchi visto che ti danno tutti per licenziare per fare investimenti per fare assunzione tutti ti danno tutto ebbene se tu vuoi stare dentro questo territorio è giusto che tu applichi le stesse regole affinché ci sia per i lavoratori non ci sia disparità di trattamento questo è quello che avviene oggi drammaticamente in FCA nessuno sputa sul lavoro nessuno sta a dire siamo schiavizzati non sto dicendo questo però di fatto piano piano stiamo come dire perdendo anche noi come sindacato perché ci vedono impotenti rispetto a questa prepotenza a questa prepotenza aziendale allora a me mi verrebbe da dire chiudo il bivio auto al bivio io dico mi immagino ho immaginato da subito FCA si trova a questo bivio a sinistra se volta a sinistra ci sono diritti europei salario europei investimenti europei se gira a destra vendita io pongo la domanda a tutti secondo me gira a destra e quindi lo scenario e probabilmente ci accorgeremo che fra non più di qualche tempo anziché la piena occupazione ci ritroviamo venduti grazie e lo ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici di radio articolo 1 siamo in diretta da Napoli e adesso prende la parola a questo convegno che ragiona di auto di auto al bivio una delegata di Pratola Serra l'ascoltiamo in diretta a radio articolo 1 delegata Italia da Cerno di Pratola Serra prima di iniziare a entrare nel merito del mio stabilimento ovvero dello stabilimento in cui lavoro voglio fare una piccola cronostoria di questo stabilimento che nasce con una deroga contrattuare al CCNL lo ribadisco come ogni volta perché noi il CCSL l'abbiamo vissuto adesso lo stiamo rivivendo è molto simile a quello che noi abbiamo vissuto tempo addietro questo è lo stabilimento che nel 99 ha lanciato il 1.6 JTD multijet quel motore che comunque è stato il boom della Fiat un motore che comunque fino ad oggi esiste ancora ed è stato apprezzato da tutto il mondo dell'automotive e bisogna dirlo in quegli anni dal 1999 Prato La Serra al boom delle assunzioni e io sono stata assunta proprio nell'anno successivo 2000 noi nasciamo dopo nasciamo nel 93 92 93 sulle cene l'Idernarna i dipendenti dell'Arna furono spostati una parte a Pomigliano una parte alla Magneti Marelli perché il patto del Prato Verde era quello che non ci fossero inquinamenti sindacali con i lavoratori che andavano ad occupare lo stabilimento di Prato La Serra ecco perché tutti i lavoratori dell'Arna furono esiliati perché erano sindacalizzati nasce con un aderogo al contratto nazionale nasce con i 18 turni nasce con le doppie battute nasciamo sottopagati non ci pagano le maggiorazioni nasciamo con le 7 ore e un quarto e la mezz'ora di pausa obbligatoriamente straordinario quasi tutti quindi molto simile al CCSL è vero che avevamo la malattia ma era meglio non farla è vero che avevamo l'infortunio ma era meglio non farlo soprattutto per i neassunti io vengo assunta in quell'anno del boom del GTD bisogna ricordarlo e lo ribadisco perché ad oggi ci ritroviamo in una fabbrica che fa per il 90% diesel e ha avuto nel cosiddetto piano industriale il motore final V6 diesel che è il più pulito prima sentivo dei compagni e mi sono detta tra me in modo dialettare noi siamo proprio inguaiati cioè stiamo rovinati perché questo stabilimento che ha una posizione propriamente strategica in Campania viene spesso dimenticato ma è uno stabilimento che io lo chiamo l'ipotenusa del mezzogiorno perché è collegato con Cassino con Pomigliano e con Melfi potrebbe dare i motori a tutti e tre i stabilimenti perché ha una posizione propriamente strategica molto molto forte distiamo 50 km da Pomigliano quindi non gli diamo neanche un motore ad oggi è uno stabilimento che parte supera 2000 dipendenti e ad oggi siamo 1806 dipendenti 199 impiegati e il resto tutti operai è uno stabilimento di giovani nessuno può andare in pensione solo due persone sono andate in pensione quindi non ci può essere uno smaltimento e allora che cosa si sono inventati di mandarci alla Sevel adesso abbiamo un reale problema di produttività sono dieci anni che noi siamo in Cassa Integrazione siamo in Cassa dal 2008 e abbiamo iniziato con una crisi di settore ovvero dell'automotive abbiamo continuato con tutti gli ammortizzatori possibili Cassa straordinaria contratto di solidarietà Cigo di nuovo Cassa straordinaria di nuovo Cigo di nuovo con tutti questi quinquenni che ci stanno non si capisce niente siamo arrivati ad oggi con una crisi del prodotto che ci coinvolge e ci inginocchia è uno stabilimento che io lo dico si dice in un termine l'uso dialettale per rendere più il termine a muro a muro cospitale cioè praticamente è così stiamo morendo lentamente come hanno fatto con Valle Ufida perché è così che è iniziato con Valle Ufida ci hanno portato via poco a poco la produzione e poi con il tempo sono arrivato al 2011 dopo che hanno fatto tutti gli investimenti dopo che sono presi tutti i soldi possibili immaginabili tutti gli ammortizzatori possibili a chiuderlo ed ecco perché nasce la preoccupazione e ancora di più nasce perché oggi la Fiat effettivamente si dichiara preoccupata ma non si dichiara preoccupata come la FIOM si dichiara preoccupata dicendo che la SEVEL di Val di Sangro dà la possibilità a tutti i lavoratori del gruppo all'incirca 600 di andare al lavoro noi abbiamo denunciato questa cosa come una forma di costrizione la costrizione non è che io ti metto alla pistola la tempia è che io speculo sui disagi sociali lavorativi e psicologici delle persone e quindi ti costringo attraverso un modo indiretto di fare una scelta che io voglio che tu faccia per smaltire degli esuberi noi abbiamo all'incirca stanno i calcoli della FIOM dai 400 ai 500 esuberi che devono essere smaltiti dal mio punto di vista ma anche dal punto di vista della FIOM CGL di Irpina di Avellino è che l'azienda vuole portarci su due turni è un turno di mantenimento che è quello di notte noi facciamo mattina pomeriggio e notte da sempre quindi l'obiettivo suo è questo fino a quando non riuscirà a fare questo perché la produzione che c'è non porta a mantenere l'organico poi c'è qualche sindacalista che una sera alla mattina si alza e dice dobbiamo fare l'elettrico senza sapere di quello che dice noi abbiamo 5 ministri come ricordava prima del Movimento 5 Stelle quella più interessata a noi c'è 5 parlamentari quella più interessata a noi è stata la Pallini che poi è venuta allo stabilimento e ha detto una gran cazzata che porteremo l'elettrico l'elettrico ci incinocchia ancora di più perché non manterrà l'organico ci vuole un motore ibrido e possibilmente ibrido diesel per mantenere quello organico di Prato la sera e quello stabilimento che non perché ci lavoro io o perché che è veramente un fioragliocchiello quei lavoratori e quelle lavoratrici hanno fatto dei sacrimicici in mani da vent'anni a questa parte ma in mani nella completa solitudine e nel dimenticatoio completamente del gruppo FCA e lo bisogna dirlo e mi viene di dirlo siamo sempre dimenticati sempre perché facciamo parte del cosiddetto indotto della Fiat e perché ci occupiamo della motorizzazione che probabilmente viene sempre messa in secondo piano bisogna dirlo che ci sono quelle persone che hanno fatto dei sacrifici ad oggi cosa si aspettano dalla FIOM qualcuno direbbe hanno accettato il CCSL sono stati complici del CCSL io devo dire una cosa almeno da noi qualche volta si raffreddano i sindacati firmatari si raffreddano e si riscaldano al tempo alterno in base all'umore dei lavoratori ma adesso i lavoratori sono rassegnati ma veramente c'è una rassegnazione molto molto forte e su questo dobbiamo fare i conti dobbiamo anche far conto che molti lavoratori preferiscono andarsene e la politica completamente assente non comprende che è vero che la FIAT non licenzia e trasferisce ma toglie risorse toglie persone e toglie contribuenti da una terra completamente dimenticata che è quella della terra dell'osso diceva Marlio Corsidoria dell'Irpinia che è dimenticata e è abbandonata a se stessa un'Irpinia che ha la Nuovo Legno che ha l'Irisbus ha l'Isochimica e ha FCA di Prato la Serra un'Irpinia che potrebbe inginocchiarsi dalla sera un'altra se questo stabilimento viene chiuso mi auguro di no ma anche se viene tagliato queste persone sono un contributo reale alla realtà locale e nonché regionale mi dispiace che non c'è il sindaco che non c'è qualcuno della regione disinteressato completamente alle politiche industriali di questa regione e del meridione perché riguarda tutto il meridione voglio solamente poi e concludo su questa cosa fare solo un passaggio sullo sciopero io sono contenta per questa cosa perché Fim e Wilm si sono ricordati che pure noi siamo metalmeccanici quando abbiamo fatto l'ultimo sciopero sulla sicurezza unitario dopo che lo sciopero sono uscite 114 persone da noi a fare lo sciopero unitario le tre sigle l'azienda ci ha detto avete fallito come fiombo gli altri sindacati hanno detto come fiombo avete fallito lo sciopero era unitario eravamo noi tre nell'unitarietà cioè loro si sono ricordati che noi siamo metalmeccanici dopo tanto tempo si sono ricordati che noi partecipiamo alla vita pubblica che siamo persone e che esistiamo ma nello stabilimento e quelli di Pomigliano mi sono testimoni ma anche altri compagni che ci sono qui della Fiat queste persone effettivamente al di là che non vengono quasi mai a lavorare ma veramente non sanno la realtà di quello che vivono questi lavoratori concretamente dell'ergo was the world class manufacturing la fatica non è più quella di una volta la fatica della forza non c'è più c'è la fatica della velocità che è peggiore della forza perché non si sente al momento ma si sente con il tempo ecco quel lavoratore ha detto torno a casa più stanco perché al momento dell'atto con la forza senti il dolore forse ma dopo con la velocità si sente più del dolore e lo dice una che è stata al montaggio da vent'anni e me lo sono girato tutto quindi ecco cosa cambia io sfido chiunque a dire che noi siamo bene è vero io forse sono una lavoratrice privilegiata perché percepisco la cassa integrazione da dieci anni pur lavorando dai cinque agli otto giorni al mese ma vi posso assicurare che quei soldi me li sfido tutti tutti quanti e me li sento tutti quanti addosso perché la Fiat come mi disse un mio gestore quando io mi lamentai e disse lavoriamo così poco che ci siamo dimenticati di lavorare sentiamo tutta la fatica addosso quindi piano con la produzione lui mi dispose Italia quando si viene a lavorare si lavora e stop grazie Pirone che ha fatto contribuito alla ricerca sempre su Pomigliano e su Mezzogiorno allora i tempi sono quelli che ci siamo detti sì grazie cercherò di ridurre al minimo io vi ringrazio per la possibilità di prendere parola in questa iniziativa e rispetto all'inchiesta io vi parlerò della componentistica auto cercando un po' di sviluppare un ragionamento complementare a quello che è stato svolto finora e riagganciandomi a delle cose che sono state dette questa mattina in particolare da Dario Alfonso e in introduzione quindi anche per economia di tempo salto tutta la parte che ha a che fare con lo scenario entro il quale si muove la filiera autoveicolare italiana e delle sfide che attraversano questa filiera sottolineando e riprendendo alcune cose che sono state già dette che riguardano in particolare una serie di incertezze che hanno a che fare con le politiche protezionistiche su scala globale che probabilmente segnano una fase nuova della globalizzazione c'è il tema delle motorizzazioni alternative c'è il tema delle nuove tecnologie digitali della guida autonoma c'è in generale una questione che riguarda l'intera filiera che ha a che fare con una inerzia se non vogliamo parlare di un ritardo rispetto a queste sfide andando a integrare i dati che Giare Alfonso ci ha presentato sulla filiera autoveicolare italiana io sottolineo un primo elemento di carattere qualitativo il fatto che è opportuno parlare di questo settore in maniera unitaria ma con la consapevolezza che all'interno di questa filiera esistono realtà profondamente diversificate e quindi ci troviamo di fronte a un settore con un elevato livello di pluralismo che ha a che fare con tutte le dimensioni economico e produttive e entro i quali esistono una serie di asimmetrie di potere lungo la filiera produttiva dentro quel gioco di competizione e cooperazione che coinvolge tutte le parti che fanno parte appunto di questa filiera i mestieri entro i quali si muovono sono molto vari tipicamente noi ne riconosciamo alcuni a che fare con gli integratori di sistema i modulisti che sono molto diversi dai sub fornitori o da chi fornisce ingegneria e design giusto per dare una idea del livello di differenziazione interna già è stato dimensionato dal punto di vista delle imprese che partecipano a questo settore parliamo di circa 2200 imprese da notare che però queste imprese non sono esclusivamente automotive nel senso sono imprese che hanno la maggior parte del loro fatturato legato all'impresa automotive ma non sono esclusivamente automotile che introduce un elemento ulteriore di complessità nella lettura di questa filiera secondo elemento di differenziazione ha a che fare poi col territorio e questo ci interessa molto di più perché queste 2200 imprese che vengono censite dall'osservatorio sulla componentistica automotive italiana sono prevalentemente concentrate nel nord il 63% nel nord ovest il 20% nel nord est quindi parliamo di oltre l'80% nel nord la restante parte ha a che fare col centro sud pari al 17% con quote molto limitate per le regioni dove ci sono gli stabilimenti di assemblaggio 3-8% in Campania 3% in Abruzzo 2% nel Lazio 1-2% in Puglia e poi 0 virgola nelle altre regioni quindi quando noi abbiamo a che fare con questa parte di filiera che è molto esposta sul settore automotive stiamo sostanzialmente guardando a un pezzo dell'industria italiana che è concentrata nel centro nord oltre al dato qualitativo c'è anche un dato di natura qualitativo di come sono fatti questi pezzi di filiera nei diversi territori e guardando al modo in cui i sistemi produttivi locali si innestano nel territorio e che quindi richiedono differenti strategie di qualificazione e crescita di questi settori noi possiamo riconoscere nel centro nord nel nord la tipica filiera verticale con diversi livelli che normalmente vengono immaginati quando si parla della filiera ancora diciamo tipo Emilia Romagna immaginiamo un modello ancora diverso quello distrettuale quello orizzontale in cui c'è un certo livello di cooperazione ma al mezzogiorno noi abbiamo invece dei indotti classici cioè pezzi legati direttamente agli stabilimenti di assemblaggio il caso unico di Melfi che è tutto legato al progetto originario in termini economici quindi saltando questa dimensionale dal punto di vista economico industriale questo settore noi ci troviamo di fronte abbiamo già visto a un settore economicamente rilevante 46,5 miliardi di euro di fatturato nel 2017 di imprese che però sul totale si guardiamo anche al resto delle cose che fanno queste stesse imprese arrivano a 69 milioni di euro quindi già molto diversificate imprese cioè quelle che si trovano più nel primo livello di fornitura sono quelle più dipendenti dall'auto ma man mano che scendiamo dal secondo in avanti abbiamo già livelli di autonomia molto molto più elevati in termini di addetti sempre quelli direttamente legati all'automobili nella filiera abbiamo 156.500 addetti di cui l'8% atipico che è un dato un po' in linea con il settore industriale ma con un elevato livello di sottoutilizzazione se noi guardiamo per esempio il livello di utilizzo degli impianti abbiamo una media del 69% ma comunque ci muoviamo tra il 60 a volte anche di meno di media a seconda del livello produttivo quindi questo livello di addetti è evidente che non è poi pienamente occupato o impiegato nelle attività produttive le caratteristiche di queste imprese e del settore ne fanno un settore fortemente stabile e rigido c'è un dato significativo che solo il 5% delle imprese di questa filiera sono entrate nel settore negli ultimi 5 anni solo il 5% il che vuol dire che la larga parte il 95% di queste imprese sono le stesse che operano nel lungo periodo il che ci dà una misura anche di una sorta di rigidità inerzia del settore o comunque di barriere all'ingresso molto alte che impediscono di immaginare una rapida trasformazione di questo settore in tempi rapidi se solo il 5% è stato l'ingresso di nuove imprese sono imprese prevalentemente indipendenti solo il 30% appartiene a un gruppo e di questi la metà di gruppi esterni e sono i grandi gruppi della componentistica mondiale che si avvicinano agli stabilimenti di fornitura e uno dei dati più recenti è che la filiera di fatto si sta molto appiattendo per cui non abbiamo più quella partecipazione gerarchica al primo al secondo al terzo livello ma abbiamo una differenziazione a seconda del mercato di sbocco questo mi dà l'opportunità di segnalare che anche all'interno delle imprese noi abbiamo diverse realtà di imprese a seconda di chi si fornisce è stato detto già questa mattina il pezzo di automotive diretto ai produttori tedeschi nella stessa fabbrica è diverso da quello diretto a Fiat per cui abbiamo ancora un'ulteriore segmentazione interna abbiamo imprese medio piccole è stato già detto per classe di fatturato medio piccole però più alte rispetto alla media dell'economia dell'economia italiana e questo ci dà la misura della rilevanza del settore su cui non è opportuno indugiare ulteriormente che cosa si osserva guardando un po' ai dati raccolti su le prospettive diciamo di chi gestisce questi settori che in circa il 40% di chi era fatturato in crescita oltre il 10% di fatturato in crescita e ha delle prospettive ottimistiche però chi sono questi? Sono sostanzialmente un pezzo che è quello più esposto ai mercati internazionali più diversificato meno legato all'FCA più legato al mercato tedesco in parte francese come stavo detto questa mattina per cui anche all'interno le dinamiche si divaricano profondamente tra la differenza la fa l'essere presente sui mercati internazionali e l'essere particolarmente diversificati per settore per prodotto che sono caratteristiche tipiche che abbiamo imparato a conoscere nel tempo qual è l'elemento secondo me importante degli ultimi anni è che i settori invece più in crisi e quelli che indicano una prospettiva pessimistica sono quelli legati all'engineering al design alla ricerca e sviluppo cioè proprio quei settori sui quali noi stiamo immaginando si possa immaginare una strategia di crescita e qualificazione del settore sono quelli che perdono di più sono quelli che hanno peggiori possibilità hanno prospettive ridotte altro elemento importante nell'ambito della diversificazione di questo settore oltre il 70% si rivolge all'after marketing cioè al ricambio e da cui dipende il 30% del loro fatturato automotivi il che significa che probabilmente questa quota sta diventando questo elemento sta diventando un elemento di riprotezione e anche di difesa dalle incertezze che hanno a che fare con il primo impianto della componentistica quindi diciamo questi sono elementi che ci servono per qualificare ulteriormente questi pezzi di filiera la dipendenza la dipendenza da fiat che è strutturale per i primi segmenti della filiera automotive quindi fornitori direttamente di fca è comunque un dato strutturale l'abbiamo visto in precedenza perché il 42% comunque dipende ancora da fiat ed è un dato il 42% del fatturato di queste imprese dipende ancora ancora da fiat ed è un dato che negli ultimi anni si muove direttamente con la crescita o la riduzione un po' a fisarmonica delle produzioni fiat chi se ne avvantaggia di questi movimenti soprattutto chi ha forte capacità di flessibilità chi riesce a gestire la struttura in maniera molto flessibile sono sempre chi occupa le posizioni più alte faccio un ultimo passaggio che ha a che fare con l'innovazione il settore automotive in Italia tradizionalmente ha un basso livello di innovazione chi innova innova prevalentemente sul processo il 78% dice di aver fatto delle innovazioni di processo però la metà di questi ha introdotto tecnologie già presenti sul settore fanno innovazioni di prodotto il 56% di questi tre quarti fanno innovazioni già presenti sul settore che cosa significa che sono imprese che seguono il mercato e che non sono in grado di anticipare questi processi quindi c'è un continuo ritardo manca un processo virtuoso di crescita guidata della filiera anche per disattenzione o disinteresse anche dei fornitori di primo livello i quali non costruiscono un rapporto virtuoso di brevettazione collaborazione e reinvestimento o si appropriano e insomma di risultati di ricerca per altri fini le politiche in questo senso è stato già detto non dico nulla null'altro metto in evidenza come alcune politiche tipo industria 4.0 risultano praticamente inappropriate per il settore per il settore automotive e che comunque vengono utilizzate da chi già fa ricerca e da chi ha capacità di interagire con l'amministrazione pubblica per ottenere fondi in questo un problema fondamentale a che fare col powertrain la produzione di motori le stime su quanto è esposta la filiera sul diesel ci dicono che il 7% della filiera è immediatamente esposta alla crisi del diesel per un totale di circa 17.000 addetti è chiaro che è una stima che può essere fatta in vari lemmi però è una buona indicazione di che cosa stiamo parlando che cosa aggiungiamo intanto un ritardo sistemico che paga il ritardo di FCA questo ritardo di FCA non si colma con facilità quello che voglio sottolineare è un elemento che immaginare di colmare ritardi accumulati significa correre di più degli altri e quindi significa investire di più realizzare le competenze industriali che finora sono mancate e realizzare quello che mi pare essere l'elemento più rilevante provare a colmare un vuoto che ha a che fare con l'assenza di una coalizione politica di attori coinvolti in questo processo di trasformazione in assenza di una coalizione politica che abbia in mente nel tempo questo tipo di prospettiva è impossibile pensare una riqualificazione del settore una nota finale che cosa si aspettano questi signori si aspettano non più che Fiat tenga fede ai piani dicono almeno che mantenessero le loro linee strategiche vi ringrazio e siamo in diretta dal polo universitario di San Giovanni a Teduccio dove si sta tenendo il convegno auto al Bivio adesso prende la parola un delegato della Sevel dopo di lui un delegato di Pomigliano d'Arco e infine le conclusioni di Maurizio Landini in diretta Radio Articolo 1 impossibile con i tempi partendo e facendo riferimenti a interventi che ho sentito prima così come condivido pienamente quello che ha detto il compagno da Mario così come ho vissuto una parte di quello che sta vivendo o ha vissuto la compagna di Prato la Serra perché io lavoro in uno stabilimento di Sevel in Val di Sangro che è una joint venture tra Fiat e PSA che quando è nata nell'80 anche qui Prato Verde non si applicavano gli accordi della Fiat quindi il famoso accordo 71 ma neanche la parte salariale abbiamo raggiunto la piena armonizzazione nel 2006 dopo una settimana di lotta totale nel 2010 è arrivato il CCSL e ci ha cancellato tutto e ci ha riportato praticamente nella condizione iniziale allora faccio riferimento a questa Joy Venture perché è diventata attualità di questi giorni voi sapete che questa società produce il Ducato in Val di Sangro è una società al 50% e che di questi giorni sta dando diciamo prova di non governo o meglio di segnali estremamente diciamo contraddittori e nello stesso tempo preoccupanti perché è venuta fuori con questa dichiarazione da parte del gruppo francese che intendono produrre in Polonia il Ducato per almeno 100.000 veicoli considerando un aspetto questa azienda è nata nell'80 dicevo con l'obiettivo di fare mille furgoni al giorno con mille persone come dipendenti oggi si attesta intorno a 300.000 veicoli l'anno negli ultimi due anni ci siamo andati molto vicini cosa succede adesso questo è stato uno stabilimento dove monoproduzione cioè nel senso che il Ducato si produce solo da noi questa notizia è evidente che comincia a delineare scenari diversi soprattutto per un aspetto perché l'accordo con i francesi è stato prorogato al 2023 è che il veicolo che noi stiamo producendo oramai ha 15 anni quindi a breve ha la necessità di essere sostituito è evidente che a questo punto si apre uno spiraglio completamente diverso se i francesi una parte della loro produzione se la possono fare in Polonia è evidente che lo stabilimento non vive più una condizione di tranquillità ma perché questo perché poi la concorrenza fatta sullo stesso prodotto non è semplice reggerla nella condizione in cui viviamo questo periodo facendo riferimento ad alcuni fatti che sono accaduti e che sono stati il risultato dell'applicazione del CCSL applicazione del CCSL che noi abbiamo vissuto direttamente forse tra i primi dopo Pomigliano perché noi a differenza di tutto il mondo Fiat non abbiamo avuto grandi problematiche non abbiamo avuto grandi crisi se non la crisi del 2008 che ci hai coinvolto tra il 2008 e il 2009 per 26 settimane di cassa integrazione dopodiché noi siamo stati sempre un'azienda che è cresciuta questa crescita ha prodotto anche la condizione che viviamo oggi perché? perché la crescita porta all'interno dello stabilimento dei forti segnali di legami e di anche vincoli tra virgolette faccio solo un esempio nella prospettiva di aumentare la capacità produttiva dello stabilimento ma non quella tecnica quella gestionale perché quella tecnica non è più possibile la Fiat ha chiesto di passare dai 15 turni attuali ai 17 turni 15 turni attuali che sono fatti con un turno di mattina e pomeriggio e rotazione con un turno fisso di notte per fare questo passaggio avevano annunciato 500 assunzioni per assumere 500 persone hanno fatto una selezione di oltre 5.000 persone voi capite che cosa significa rispetto ai dipendenti attuali una cosa di questo genere in un territorio per chi segue le dinamiche sindacali che ha vissuto le vicissitudini della ONUEL le vicissitudini della ONDA e che per il resto fatto salvo appunto i fornitori di SEVEL non ci sono grandi spirali positivi questo stabilimento vi dicevo a questo punto come può reggere la concorrenza se io adesso vi illustro un attimo che cosa è successo con CCSL cosa si può migliorare ulteriormente dicevo sono stabiliti che abbiamo 6.400 dipendenti SEVEL abbiamo 200 interinali da due anni 450 interinali assunti dalla settimana scorsa per gestire già le ferie a scorrimento quindi non facciamo più le ferie con la fermata del mese di agosto abbiamo 50 trasfettisti quindi un totale di precari di 900 persone quindi siamo tornati come dipendenti a prima del 2008 ad essere oltre 7.100 persone vi dicevo produciamo abbiamo prodotto nell'ultimo anno 300.000 veicoli ma l'applicazione del CCSL che cosa ha prodotto taglio delle pause primo passaggio 10 minuti di pause comportano un taglio o comunque valgono 80 dipendenti per tutto l'anno come se fossero tagliati 80 dipendenti con un risparmio che noi abbiamo stimato in circa 2 milioni e mezzo di euro il primo anno nell'ultimo anno abbiamo pensato che ha fatto un calco intorno a 3 milioni e mezzo di euro faccio un riferimento a un altro aspetto del CCSL il premio che noi prendiamo sull'ottimizzazione è circa 6 milioni di euro quindi noi a questo punto già con il taglio delle pause ce lo siamo finanziati per metà in più il raggiungimento della 6% di ottimizzazione ogni anno significa fatto un calcolo se lo facciamo sui dipendenti lo facciamo sui costi non cambia niente sono 360 dipendenti il 6% sono 360 dipendenti quindi ridurre i costi significa ridurre altre 360 dipendenti questo produce un risparmio di 13 milioni di euro l'anno quindi ci siamo pagati il premio e non solo e forse ci siamo pagati o stiamo pagando anche il sistema del CCSL perché il sistema del CCSL penso che da quello che ho sentito stamattina mi pare comune da tutte le parti ha bisogno di essere incentivato e foraggiato perché altrimenti non si regge i delegati che non lavorano mai e le tessere finte che fanno hanno un costo è evidente che quei signori non possono essere disturbati noi abbiamo fatto un calcolo tenendo conto di quello che accade ogni giorno nello stabilimento che più di mezzo milione di euro l'anno se ne vanno per mantenere questo sistema di clientele allora se si apre uno stabilimento gemello che oggi PSA dice di utilizzare per fare una produzione aggiuntiva oltre le 300.000 vetture è solo per una parte che è la parte del modello più grande ma tecnicamente dove passa il più grande passa comodamente il più piccolo ma io volevo fare questo riferimento la concorrenza con questo stabilimento in Polonia adesso su che cosa lo possiamo fare più cioè oltre questo io non ho capito dove e cosa possiamo fare per quanto riguarda le condizioni della condizione di lavoro anche per via del questionario che abbiamo fatto e le cose che diceva Davide di Pomigliano ma sono la fotocopia totale di quello che succede in tutti gli stabilimenti dove si lavora quindi l'ottimizzazione continua il mettere mani alle settorazioni praticamente tutte le settimane e quant'altro ci sono tutte situazioni che pesano sulla vita dello stabilimento e sulla quotidianità dicevo prima le assunzioni le clientele sulle postazioni di lavoro cosa producono questi? producono quello che dicevamo a qualche compagno la rassegnazione non si può fare niente deve andare così i lavoratori non rispondono alle sollecitazioni che noi mettiamo in campo perché non siamo spettatori di questa situazione faccio riferimento sempre al questionario quando siamo rientrati noi come RLS perché noi siamo comunque la prima organizzazione in questo stabilimento il primo anno la convocazione dell'articolo 35 infortuni denunciati durante l'anno 5 secondo anno che eravamo presenti noi 55 l'ultimo anno 80 non perché prima gli infortuni non accadevano accadevano pari pari se non anche di più però è evidente che come dire a questo punto sono stati costretti dopo il nostro intervento sulla ASL sull'INAIL e su quant'altro a cercare di non mistificare più i fatti pena anche la responsabilità dal punto di vista penale ma dicevo questi aspetti incidono fortemente sulla vita sindacale noi le iniziative le mettiamo in campo ma abbiamo una grande difficoltà a far comprendere ai lavoratori che da questa situazione si può uscire si può uscire con l'aiuto di tutti quindi di tutti i lavoratori è fondamentale lo dicevo qualche compagno prima è fondamentale che comunque la questione sindacale della FIAT non rimanga un aspetto a sé ma che diventi un tema di discussione con le altre organizzazioni perché non è possibile che 80.000 dipendenti possano tenere questa situazione all'interno del mondo del lavoro in Italia io penso che debba essere un impegno della CGL un impegno della FIOM ma un impegno delle istituzioni a mettere fine a questa diversità così pesante e adesso dovrebbe esserci l'ultimo intervento di un delegato prima della conclusione dei lavori di questo seminario da parte di Maurizio Landini segretario generale della CGL adesso dovrebbe prendere la parola un delegato di Pomigliano d'Arco dello stabilimento di Pomigliano d'Arco e poi appunto Maurizio Landini sempre in diretta su Radio Articolo 1 gli occhiali perché così non vedo allora buongiorno a tutti grazie a tutti per essere intervenuti e grazie per avermi dato la possibilità di poter esprimere ovviamente il mio intervento prima di iniziare ovviamente a fare l'intervento vorrei dare un'altra giornata al professore Bubi a profitto della sua presenza vi voglio ricordare che se prima eravamo impostati a 900 abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti siamo a 910 e in più godiamo adesso anche dei 12 turni dei 18 turni dei 21 turni della cassa integrazione e anche di forma di straordinario ovviamente tutto questo con il belabracido delle organizzazioni sindacali firmatari del CCSL parto con il mio intervento per chi non mi conosce sono Sebastiano Donofrio lavoro a Pomigliano d'Arco lo stabilimento FCA dove si produce la Panda diciamo che è lo stabilimento campione non solo di Italia ma di Europa cari compagni e cari compagni caro Maurizio è per noi un'enorme soddisfazione ritrovarti qui a ricoprire il ruolo di segretario generale della CGE e con un pizzico di orgoglio e di soddisfazione siamo convinti che anche la strada fatta insieme abbia contribuito a traguardarti verso tali obiettivi la battaglia iniziata a Pomigliano non per scelta nostra e successivamente per il resto del gruppo FCA ha visto la RSU protagonista nel salvaguardare i principi fondamentali della CGL che per noi restano e resteranno un valore imprescindibile abbiamo avuto l'onore di difendere la nostra Costituzione dagli attacchi che in questi anni il padronato ha portato avanti con tutte quelle organizzazioni che ancora oggi contro tutte quelle organizzazioni che ancora oggi credono nei diritti sociali e costituzionali di equità e uguaglianza così come anche ha sancito il nostro congresso nazionale confederale e di categoria abbiamo fatto delle scelte difficili caro Maurizio ma con il senno del poi possiamo oggi affermare che le previsioni che avevamo fatto nel lontano 2010 si sono tutte avverate nostro malgrado il CCSL non era un caso isolato ma era il tentativo ideologico da parte della proprietà di letere svuotare significativamente diritti conquistati con anni di lotta e di sacrifici a distanza di 10 anni dall'applicazione di questo contratto di gruppo abbiamo la necessità sindacale di fare una sintesi di cosa è stato per noi lavoratori come sono cambiate le condizioni di lavoro e di come le promesse di investimento e di piena occupazione siano ad oggi un lontano ma lontanissimo traguardo consci delle norme responsabilità che avevamo e che abbiamo nei confronti dei lavoratori abbiamo concepito la nostra bozza contrattuale rivendicando al primo punto il raggiungimento della piena occupazione per tutti gli stabilimenti era ed è un elemento fondamentale della nostra piattaforma perché presentare una proposta in cui si rivendicano solo aumenti salariali quando la maggioranza dei lavoratori è in cassa rappresenta una rivendicazione mutilata di un elemento fondamentale che è il lavoro come tutti sappiamo in questa trattativa non è mai stato possibile affrontare tale problema forse perché era grande l'imbarazzo per le promesse fatte mai mantenute la piena occupazione sbandierata con i fantomatici piani industriali presentati e mai realizzati da parte sia della proprietà che dai sindacati firmatari che doveva avvenire entro il 2018 è miseramente fallita sarebbe un segnale di umiltà da parte dei firmatari ammettere che le loro previsioni erano sbagliate e che sarebbe il momento è arrivato il momento di un'assunzione di responsabilità da parte di tutti nell'interesse collettivo dei lavoratori rivendicare insieme è quello che aspettiamo da anni nel nostro sito e nel gruppo un piano industriale che realizzi nei fatti la piena occupazione tali ritardi hanno avuto un impatto sui salari dei lavoratori la crisi di questi anni non è stata pagata solo dalle aziende anzi in quest'Italia qui mentre gli stabilimenti FCA erano fermi a carico dell'Inps la proprietà risanava i debiti ridistribuiva gli utili agli azionisti con pochi calcoli ci accorgiamo che la storia per i lavoratori è stata totalmente diversa la perdita salariale di questi anni per le lavoratrici e i lavoratori è stata di circa 4.000 euro annui se a questo aggiungiamo che le condizioni salariali in termini di paga base per i lavoratori metalmeccanici del mondo fiat sono peggiorate e i rapporti alle aziende che applicano il CCNL vantiamo ancora un saldo negativo in termini di diritti salari e democrazia ci viene da chiedere ma dove sono andati a finire i salari tedeschi siamo ad oggi tra i metalmeccanici più poveri d'Italia e di tutta l'Europa il secondo punto dolente che merita di essere da me citato sono le condizioni di lavoro anche qui la nostra piattaforma partiva da un approfondito e dettagliato studio basato su un campione significativo di lavoratori condotto con l'ausilio della fondazione di Vittoria e Sabattini la quale ha confermato che in tutti gli stabilimenti in cui si applicano le nuove metodologie previste dal CCSL le condizioni di lavoro sono drasticamente peggiorate ma per noi che viviamo quotidianamente alla fabbrica non è stata una sorpresa anzi una semplice conferma le conseguenze di tale deriva è dovuta essenzialmente dall'impossibilità da parte della RSA di contrattare migliori condizioni di lavoro e qui a nostro avviso che si gioca la vera partita sul CCSL la vera conquista della proprietà è stata quella di relegare alla RSA e ad un semplice e un deprimente ruolo notarile garante delle decisioni aziendali in cambio di una inconglutente agibilità sindacale fatta da una montagna di ore di permesso sindacale e qui voglio fare un inciso a proposito di permessi sindacali faccio un passaggio che è successo ieri in fabbrica lavoravo su una postazione che è proprio di fronte al montaggio delle porte che conosce bene sia Stefano Birotti che Mario di Costanza è una postazione dove io abbastanza agibilità perché sono ridotte capacità lavorative il capo unità della mia diciamo mia officina o di officina di cui faccio parte la logistica chiama il mio responsabile e dice no Donofri in quella postazione non deve andare perché io sono diciamo abbastanza un cane sciolto perché riesco a saltare da una linea all'altra facilmente con molta agibilità personale che la riesco a conquistare mi vincolano ovviamente a questo punto di parlare con la gente e di fronte a me a proposito ovviamente faccio questo passaggio senza polemica nel modo più assoluto perché noi il 14 vogliamo sicuramente scioperare e vogliamo dare il nostro contributo e fare la nostra parte però dovete sapere che con quelle persone lì abbiamo una difficoltà enorme perché di fronte a me ieri su quelle linee se erano schierate Fim Wilm Fismic e questa cosa qui non è accettabile perché io stavo semplicemente facendo quella che era la mia attività sindacale informare i lavoratori di che cosa era il CCSL e di come era stato ulteriormente peggiorato a proposito di condizioni di lavoro a proposito di donazione di sangue 104 e tutto il resto perché i lavoratori ce lo chiedono la scelta di svuotare completamente il ruolo negoziale dei delegati in questa fabbrica è stato l'obiettivo principale del CCSL e i risultati sono palesi davanti agli occhi di tutti la parola utilizzata in questi anni dagli altri era scambio dei diritti in cambio di lavoro che a me è purtroppo latita i diritti li hanno svenduti ma il vero problema per lo stabilimento di Pomigliano e Nola è l'imminente scadenza degli ammortizzatori sociali in deroga che come tutti sapete il 10 settembre scadono definitivamente a giugno del 2018 la FCA aveva chiesto un ulteriore anno di cassa in deroga per permettere i lavori che avrebbero portato finalmente all'implementazione del nuovo modello la famosa tonale ad oggi in fabbrica non c'è nessun cantiere nulla che possa far pensare che da qui a breve possono iniziare i lavori per il nuovo impianto di produzione e su questo voglio ricordare a me stesso come lo dico alla FIOM come l'abbiamo ribadito in sede negoziale al ministero che la FCA ci rispose che di fronte a un eventuale ritardo lei non chiedeva ulteriore proroghe il 10 settembre è vicino la cassa sta per scadere e ad oggi non c'è nessuna vettura in questo momento in allestimento a questo punto i lavoratori aspettano risposte da chi ha promesse e non ha mantenuto e faccio un passaggio e un appello a questi signori della politica come diceva la re Davide e come ovviamente tutti quanti noi diciamo e pensiamo questi qua si sono proposti al governo di questo paese come formazione politica di cambiamento quel cambiamento che purtroppo ahimè soprattutto in campo diciamo di politica industriale non si vede nel modo più assoluto un euro un investimento un progetto un futuro la smettessero di ridicare la smettessero di fare comunque barzellette selfie e quant'altro oppure di attaccare chi in questo momento legittimamente perché le piazze sono legittimate a contestare ti può piacere o non ti può piacere il ruolo comunque che ogni cittadino di noi ha di fronte alle ingiustizie che vengono avanti e iniziano insieme al sindacato a porsi il problema di convocare la proprietà di fronte a un'emergenza che è diventata un'emergenza nazionale e di trovare quelle soluzioni necessarie e un progetto a lungo termine se effettivamente ci tengono all'interesse nazionale e alla salvaguardia dell'automotive in questo paese qui al sud caro Maurizio abbiamo bisogno che il lavoro dia dignità alle persone attraverso diritti dobbiamo invertire l'idea che se vuoi lavorare devi rinunciare ai diritti e dignità perché questo tipo di lavoro nelle nostre terre viene offerto solo ed esclusivamente dalle mafie grazie e questo era l'intervento di Sebastiano Donofrio delegato di Pomigliano d'Arco dello stabilimento FCA di Pomigliano d'Arco ascoltiamo Gianni Rinaldini questo lavoro svolto dalla fondazione di Vittorio alla fondazione Sabatini lavoro commissionato dalla CGL nazionale della FIOM nazionale ha coinvolto 15-16 molti casi giovani ricercatori che hanno girato per l'Italia hanno fatto incontri hanno costruito questa ricerca che da quello che noi sappiamo ce ne sono proprio molto poche anche in Europa che hanno una dimensione di questa natura questo è stato fatto attraverso lavoro volontario questo anche gruppo che è cresciuto di 14 15 giovani che hanno anche in questo modo scoperto scoperto un mondo quello dei lavoratori delle lavoratrici che non è una cosa con l'aria che tira scontata ecco questo ha permesso anche di costruire un gruppo di lavoro gran parte ovviamente precari che hanno fatto questa esperienza sulla questione invece della ricerca io mi permetto di dire conoscendo un po' la situazione la situazione della Fiat che è chiaro che Fiat FCA che siamo ad un passaggio decisivo non è che non ci siano Fiat l'FCA sta facendo incontri con la Pesco non so se ne abbia fatti tre o quattro e non hanno ancora trovato una soluzione e un accordo quindi dentro questo settore si stanno muovendo e ci saranno certamente non solo per l'FCA novità da qui ai prossimi mesi perché siamo di fronte a un passaggio epocale come è stato più volte più volte richiamati con un'incertezza a cui si aggiunge la questione dei dazzi e della chiamiamo nei suoi termini veri della vera e propria guerra commerciale che si è aperta a livello internazionale tra gli Stati Uniti la Cina e poi c'è la Russia e per certi aspetti aggiungerei la Germania per quanto riguarda l'Europa il gasdotto russo eccetera eccetera in una partita dove sono in gioco tante risorse da mettere a disposizione dove anche quando i padroni si scontrano tra di loro non scherzano basta vedere l'accordo Renault Nissen visto che i giapponesi vogliono cambiare quel tipo di accordo perché è troppo sbilanciato sui francesi hanno fatto esplodere la cosa ma mica aspettato di fare chissà che cosa che quando l'amministratore delegato è atterrato in Giappone l'hanno messo in galera quando è arrivato a sua totale insaputa ha trovato i carabinieri che l'hanno preso e l'hanno messo in galera ed è attualmente ancora in galera per cui la Renault e la Nissan stanno ridiscutendo il tipo di alleanze siamo a questi livelli per capirci le partite che sono aperte la questione tradotta è che noi corriamo il rischio di non avere più settore auto nel nostro paese questa è poi la realtà proprio per le cose che sono state dette e qui c'è un soggetto il soggetto è la famiglia Agnelli è la famiglia Agnelli che ha sempre deciso da allora a partire da Gianni e Umberto Agnelli di abbandonare il settore dell'auto questo è un problema che poi ha avuto i diversi tappi quindi è chiaro che questo convegno serve anche faremo Torino eccetera per costruire assieme un ragionamento che è un ragionamento di carattere di carattere nazionale ecco il senso di questa ricerca ovviamente sono stati forniti tutta una serie di elementi mancano degli aggiornamenti per le situazioni degli ultimi mesi ma credo che questo verranno riempiti nelle fasi successive ora do la parola per le conclusioni a Maurizio Landini segretario generale della CGL Maurizio Landini segretario generale della CGL in diretta radio articolo 1 il lavoro questa ricerca e gli interventi che ci sono stati oggi permettono di fare una riflessione non solo su quello che è successo dentro FCA nel nostro paese ma anche su quelle che sono le dinamiche che da ultimo richiamava anche Gianni del contesto dentro il quale tutta questa vicenda si è sviluppata e da un certo punto di vista naturalmente come per l'importanza che ha non solo FCA ma la produzione manifatturiera di tutto ciò che in un qualche modo costruisse prodotti che arrivano alla mobilità o che ragionano e affrontano il problema della mobilità hanno come valore generale sia sul piano economico sia sul piano della ridefinizione dei modelli di produzione e questo naturalmente ha un impatto che ci fa riflettere anche su che cosa dobbiamo fare quali problemi abbiamo di fronte comprese le iniziative sindacali che qui sono state annunciate che sono state messe in campo e la dimensione più generale che questi processi hanno io non mi voglio sottrarre ad alcune cose che qui sono state dette e vorrei farvi riflettere diciamo così visto che è un pezzo di esperienza comune che abbiamo vissuto su questi anni partendo da un punto certo questi sono stati anni caratterizzati anche dalle divisioni tra le organizzazioni sindacali e questo è un punto di cui tener conto e con cui ragionare ma non scordiamoci una cosa perché se no ribaltiamo un po' la situazione e cioè che gli accordi separati e le leggi sul lavoro sono state fatte dalle imprese e dalle forze politiche perché se no se noi non comprendiamo questo o rimuoviamo questo elemento secondo me rimuoviamo un elemento di fondo anche per decidere con chi dobbiamo prendercela di qui in avanti lo dico perché se uno ci riflette dal 2010 al 2019 se noi ripercorriamo un attimo quel periodo se ci riflettiamo sono cambiati sei governi nel nostro paese c'era il governo Berlusconi poi abbiamo avuto il governo Monti che se ci riflettete è stato l'unico governo che a un certo punto ha provato a convocare anche Fiat c'era Monti a quell'incontro c'era Barca c'era la Fornero c'era Passera che tentò un'operazione non riuscita di discussione sulle politiche industriali poi abbiamo avuto il governo Letta il governo Renzi Gentiloni ed oggi il nuovo governo quindi noi abbiamo avuto il centro-destra il centro il governo tecnico di salvezza nazionale il governo di centro-sinistra tante versioni del governo di centro-sinistra oggi abbiamo un altro governo e allora se dobbiamo fare una riflessione nessuno di questi governi di orientamenti diversi ha mai assunto il problema della politica industriale ma anche di che cosa voleva dire rimettere al centro il lavoro e lo dico perché quando all'origine si dice che nel 2010 i lavoratori le lavoratrici noi la CGL ci siamo trovati a volte da sole ad affrontare i problemi insisto su questo punto non era solo un problema con altre organizzazioni sindacali perché se la mettiamo così noi riduciamo quello che è avvenuto e rischiamo di non comprendere che siamo di fronte ad un problema che ha in un qualche modo determinato un consenso politico e sociale molto forte alle scelte che in quella fase lì sono state fatte e che noi abbiamo tenuto aperto tutti assieme perché vorrei ricordare che non c'è solo stato come diceva Francesca dopo il 2010 la legge fatta dal governo Berlusconi con Sacconi ministro al famoso articolo 8 che se la vogliamo dire in italiano ce lo ricordiamo tutti è stato il momento in cui attraverso quella legge si è data validità di legge ad un accordo che altrimenti non aveva quell'elemento di validità se poi ci riflettiamo è successo dell'altro e se ci pensate questi anni sono anni quelli che adesso sto dicendo che hanno anche accompagnato diversi progetti industriali da parte di Fiat perché il primo accordo quando Fiat si chiamava ancora Fiat e non era FCA prevedeva un determinato progetto industriale in cui come ricordava Michele lì c'era il prezzo che era la chiusura di termini merese con l'obiettivo del milione 400 mila auto quindi con un'idea allora di aumento consistente dei volumi produttivi da parte di Fiat dentro ad uno schema tradizionale di produzione non dentro un'idea di riforma di quella produzione poi dal 2010 in avanti abbiamo avuto quel popò di crisi mondiale che ha messo in discussione tutto al punto che se vi ricordate negli anni successivi non solo non hanno fatto gli accordi che dovevano fare se vi ricordate anche dopo Pomigliano ci fu Mirafiori e Mirafiori li fecero votare su un progetto che fu fatto saltare perché la produzione che si doveva fare a Mirafiori la fecero in Serbia a proposito di Europa di delocalizzazioni di processo dentro il quale noi ci siamo trovati e successivamente se ci ragioniamo ulteriormente sempre guardato sul piano dei contenuti quello ha determinato se vi ricordate abbiamo passato un periodo in cui la teoria era che era la crisi era così forte che sbagliavano le altre case automobilistiche che facevano investimenti anche quando c'era la crisi perché bisognava aspettare per capire dove investire e se ci riflettete 2013 c'è la sentenza della Corte di Cassazione che è quella che in un qualche modo ha sancito formalmente che il tentativo di cancellare la FIOM e la CGL dagli stabilimenti del gruppo non era possibile perché avevamo la Corte Costituzionale che diceva che non era possibile e che quindi era un diritto se vi ricordate quella legge quella sentenza della Corte Costituzionale si concludeva non solo dicendo che l'articolo 19 per come era stato interpretato non stava in piedi ma la Corte Costituzionale si rivolgeva al Parlamento e alle forze politiche perché facessero una legge sulla rappresentanza che non c'era perché l'altro elemento che è emerso con questa vicenda in questa fase è che avere una Costituzione che dice determinate cose ma non avere leggi sulla rappresentanza che sanciscono la validità di quei diritti determina dei vuoti che appunto sono anche il fatto che ancora adesso che si sta discutendo di salario minimo o non di salario minimo siamo di fronte al fatto che senza legge sulla rappresentanza nemmeno i contratti nazionali di lavoro hanno una validità erga omnes per tutti perché l'articolo 39 della Costituzione non è mai stato applicato al punto che stiamo discutendo di quella roba lì e vorrei far notare che dall'ora ad oggi ad esempio è avvenuto che la CGL nella sua totalità ha depositato da anni in Parlamento una proposta di legge che non a caso chiede di andare ad una legge sulla rappresentanza oltre che un nuovo statuto dei diritti dei lavoratori ma che pone questo tema come ridisegno complessivo del sistema delle relazioni del nostro paese per poter difendere i contratti nazionali di lavoro e la contrattazione collettiva e se ci riflettiamo ulteriormente in questo periodo noi siamo in presenza anche di un cambio dei piani perché la scelta di a quel punto decidere che non c'era più quello del 2010 ma che c'era un nuovo piano quello del polo del lusso del premium che ha determinato anche un cambio sul piano degli obiettivi e delle cose che ha coinciso da un certo punto di vista con la ripresa del settore dell'auto è del 2014 elemento insisto che ha determinato anche in quella fase nessuna discussione pur con i cambiamenti dei governi rispetto alle scelte che si dovevano fare di politica industriale sul settore ed era il periodo in cui se vi ricordate dopo aver fatto gli accordi con gli americani che ci spiegavano che investire in auto elettrica o investire in nuovi modelli erano soldi cacciati via perché erano fuori luogo vorrei nel silenzio più generale a diversità di quello che facevano altri e questo elemento in cui c'è sempre stato un elemento e un vincolo e cioè che sicuramente come qui veniva raccontato con il peggioramento che si è determinato delle condizioni che del resto era insito in quegli accordi perché una delle critiche che abbiamo sempre fatto a quegli accordi è che non c'è più la contrattazione in azienda perché se il confronto tra la rappresentanza sindacale e l'impresa diventa una commissione che in caso di parere diverso se non c'è l'unanimità decide l'azienda come è noto questo non è una contrattazione questo è quello che si chiama la siare campo libero alle scelte che l'impresa naturalmente fa di volta in volta avendo ed era questo l'elemento avendo la possibilità di poter variare le cadenze di poter variare i turni di poter variare gli orari senza bisogno di dover più ridiscutere né negoziare con nessuno che è quello che sostanzialmente come voi descrivete sta avvenendo oggi all'interno dell'impresa e che questo abbia determinato sicuramente un peggioramento delle condizioni di lavoro come viene descritto con le caratteristiche che qui voi avete raccontato e che nella ricerca emergono con molta chiarezza ma indica anche che il rapporto tra un modello di produzione di questo genere e le scelte di politica industriale o di qualità che possono essere realizzate sono due elementi molto distanti anzi da un certo punto di vista l'accordo è quello che permette di avere mano libera nella gestione dei processi ma questo non determina assolutamente la possibilità di un confronto di una discussione su scelte di politiche industriali di contenuto poi se la ragioni dal punto di vista diciamo così dell'impresa questo ha determinato uno spazio e un intervento ma che ha accompagnato un processo di riduzione in realtà degli investimenti perché l'unica cosa che è rimasta diciamo così integra o che è stata salvaguardata in questo periodo sono i dividendi degli azionisti che in un qualche modo questi non si sono mai ridotti neanche quando c'era la cassa integrazione e neanche quando c'era meno lavoro dentro gli stabilimenti qui c'è un elemento che non a caso c'è sempre stato un riconoscimento molto alto della famiglia rispetto all'amministratore delegato perché questo suo compito lui l'ha sempre perseguito con molta chiarezza e con molta finalità è un obiettivo che dal loro punto di vista è stato sicuramente realizzato e raggiunto e non è che possono dire che non ha fatto bene quel mestiere lì ma allo stesso tempo questo processo ha determinato complessivamente anche un ritardo e ha accompagnato anche un processo perché se ci ragioniamo di fronte al fatto di non aver assunte quindi di essere in ritardo come qui viene indicato rispetto anche ai processi che sono in atto dentro il settore dell'auto con la dimensione internazionale che questi hanno che qui venivano sostanzialmente descritti quando la Cina produce non solo un terzo quasi ormai della produzione di auto che si fa nel mondo ma continua a produrre con livelli di tecnologia che sono molto più avanzati o che comunque indicano anche degli obiettivi di cambiamento penso anche ai vincoli posti rispetto alla produzione di auto elettriche e tutto il resto noi siamo di fronte anche ad una situazione in cui le stesse condizioni di mercato su cui tu agissi cambiano e stanno cambiando anche la natura del prodotto che viene in un qualche modo realizzato e non a caso oggi se la guardiamo da quel punto di vista lì noi siamo di fronte a un processo che è già avvenuto quando è iniziata questa ricerca eravamo nel 2017 io ricordo che la prima iniziativa che abbiamo fatto in CGL a Roma con la presenza anche di ministri allora in cui indicavamo la preoccupazione di uno spezzatino del gruppo così era il nostro gergo guardate che si può andare in questa direzione e che quindi c'è il rischio anche in quel caso lì non c'è stato un ascolto particolare oggi non siamo più di fronte al rischio oggi siamo di fronte a processi che sono già intervenuti perché quello della Magneti Marelli indica con molta chiarezza non solo che c'è un rischio ma che è già avvenuto che e tra l'altro come qui veniva raccontato parlando di un'azienda tra l'altro anche non solo di componentistica ma che ad esempio sulla ricerca e sulla produzione sul ragionamento che riguarda anche l'auto elettrica non stiamo parlando di un gruppo che non sa di che cosa sta parlando o non sta sviluppando sostanzialmente anche il lavoro in questa direzione e se poi lo ragioniamo siamo di fronte al paradosso che non solo i milioni che qui sono stati descritti ricavati da quella vendita di 6 e 8 almeno 2 sono stati usati per dividere questa vendita tra gli azionisti perché questo è il dato concreto a cui si aggiunge l'altra quota che è stata data per fare un accordo con Tesla in modo che così fanno la media così la media è che anche il gruppo a me viene in mente diciamo così è un po' come quando c'era Donat Katten ministro che aveva alzato i livelli per quando l'acqua doveva essere potabile quindi hanno alzato i livelli e hanno detto che era potabile anche ciò che non lo era comprando quella cosa lì si dice che anche FCA mediamente fa auto elettriche quando non ne fa neanche una capite che è il bello del mercato ma da un certo punto di vista noi siamo in presenza del fatto che non solo non ci sono questi livelli di investimento e si sta perdendo un'occasione ma anche qui a proposito di politica industriale noi segnaliamo anche un'altra cosa Gianni diceva dei rapporti tra Renault e Nissan ma badate che sia il governo francese sia il governo tedesco stanno costituendo in questa fase dei consorzi tra imprese ma anche con una presenza pubblica stanno mettendo soldi per investire su questo rinnovo stanno chiedendo e forse otterranno dall'Europa che questi soldi anche pubblici che vengono messi sulla carta non saranno considerati aiuti di Stato perché questo è quello che sta succedendo a proposito e lo stanno facendo noi abbiamo dei governanti che dicono che loro sono sovranisti che bisognerebbe salvaguardare sì forse il sovranismo è chiudere i porti non so come dirla può essere che questo sia un sovranismo nel frattempo hanno chiuso i porti ma non si accorgono che ci sono le multinazionali che vengono a comprare le aziende da noi alla dimostrazione diciamo così che non solo la chiusura dei porti non funziona ma dimostrazione del fatto che non ci si sta ponendo il tema di politica industriale di fondo che riguarda appunto il tuo sistema produttivo il tuo sistema di produzione e lo dico perché se noi ragioniamo dentro a questo contesto ragioniamo anche sul fatto che sul piano legislativo in questi anni e se pensiamo anche al Jobac che in un qualche modo ha completato non è un caso che nessun governo in nessuna forma ha mai accettato di discutere di una legge sulla rappresentanza vorrei che questo elemento fosse chiaro perché se ci fosse una legge sulla rappresentanza che dice che i contratti nazionali hanno un valore generale per averlo debbono essere firmati dalle organizzazioni rappresentative e tutto il resto banalmente anche nel nostro paese non la FIA nessuna impresa potrebbe non applicare i contratti nazionali di lavoro e questo è un punto insisto che ha un elemento anche di valenza politica generale perché questo processo è avvenuto anche in questa considerazione e da un certo punto di vista credo che abbia un significato importante non che abbia risolto il problema in questo caso dei lavoratori di FCA o del modello FCA ma se ci riflettiamo e questo secondo me è un punto di cui dobbiamo tenere conto poi capisco che non risolve le tante domande i tanti problemi che anche qui sono stati denunciati a partire anche dalle cose che raccontava il delegato di Pomigliano nell'ultimo intervento però dovremmo fare una valutazione perché nel 2010 quando questo processo è iniziato il processo era quello di cancellare complessivamente tutti i contratti nazionali il doppio livello di contrattazione far diventare il modello Fiat poi FCA il modello generale che si estendeva in tutto il paese oggi mi permetto di dire siamo di fronte al fatto che non abbiamo risolto il problema ma che oggi in un qualche modo possiamo dire che nel nostro paese il modello FCA sul piano contrattuale è il modello FCA appunto non è il modello generale che c'è in questo paese né sul piano contrattuale né da altre parti e se oggi addirittura possiamo dire a partire dalla Magneti Marelli come diceva Francesca nel suo intervento o in generale che occorre che a quel punto lì non che gli altri escono dal contratto ma quelli che non ci sono in questo caso FCA rientri nel contratto per poter dare quei diritti anche di voto e di rappresentanza che i lavoratori non hanno è anche frutto io credo di quelle battaglie qui e vorrei io capisco non vengo qui a fare lezioni io capisco perfettamente che un conto è viverle le cose e un conto è sentirle raccontare c'è una bella differenza quindi con il rispetto diciamo reciproco che ci vuole tra persone che si conoscono e che si vogliono bene diciamo così ma credo che sia allo stesso tempo importante non perdere di vista quello che è stato fatto perché la possibilità di aver riconquistato anche il contratto nazionale e secondo me parte anche dal fatto che non sono riusciti a cancellare la FIOM e la CGL dentro FCA non so se è chiaro non so se la condividete questa riflessione però secondo me è un punto che ha una sua importanza è proprio un punto di fondo senza il quale non saremmo nella condizione che stiamo discutendo oggi e in questo senso lo dico perché con alcuni nella pausa pranzo abbiamo anche un po' discusso io non lo so se è una forzatura ma riflettete anche su questo elemento se ci fosse stato già cosa che non c'è mai stata da noi ma se ci fosse stato un sindacato unitario non unico unitario e democratico e cioè che prende le sue decisioni assieme ai lavoratori li fa votare anche se ci sono delle diversità noi avremmo avuto qualche imprenditore che poteva decidere con quale sindacato fargli accordi e fargli accordi separati ora secondo me no lo dico da questo punto di vista perché uno degli elementi che oggi sta determinando questa condizione perché se uno ci ragioni il peggioramento delle condizioni non c'è stato semplicemente dentro FCA poi certo stiamo discutendo di questo e qui si è descritto anche da un punto di vista anche scientifico i metodi che sono stati utilizzati e le cose che hanno determinato ma se vogliamo oggi essere onesti tra di noi noi siamo di fronte al fatto che c'è stato un peggioramento complessivo delle condizioni di lavoro perché oggi se tu vai a vedere dove c'è l'appalto il subappalto il sottappalto la finta cooperativa io vi posso garantire che questa condizione è una condizione ormai generalizzata in qualsiasi settore vai in qualsiasi ambito economico con cui tu agissi perché questa situazione ce l'hai se vai negli ospedali se vai nel pubblico impiego se vai nel commercio se vai nei centri commerciali se vai nella logistica se vai in qualsiasi settore industriale perché da un certo punto di vista questo elemento di frantumazione del mondo del lavoro ha determinato un arretramento complessivo delle condizioni generali e se ci pensate uno degli elementi di arretramento del nostro sistema industriale ed è una delle ragioni che ha portato anche la categoria dei metallmeccanici a proclamare l'ossoeopero generale del 14 ma che ha portato anche CGL e Cislewil per la prima volta dopo un po' di anni a mettere assieme delle proposte e a indicare un percorso di mobilitazione che in una prima fase si concluderà il 22 di giugno con la manifestazione che CGL e Cislewil hanno messo assieme abbiamo messo assieme a Reggio Calabria per il mezzogiorno che non a caso pone proprio come elemento centrale il cambio del modello di sviluppo che si è basato un modello di sviluppo come quello che è emerso è chiaro che si è basato sulla riduzione dei salari e sull'aumento della precarietà nel lavoro perché anche le leggi che sono state realizzate hanno di fatto reso possibile ciò che fino a poco tempo di fa non era possibile se ci pensiamo non è avvenuto solo con l'articolo 8 elemento di novità che determina la possibilità di fare accordi che derogano alle leggi ma se ci pensate un attimo quello che fino a qualche anno fa con legge era impedito cioè l'intermediazione di mano d'opera che per legge nel nostro paese era impedita noi oggi siamo di fronte tranquillamente al fatto che oggi è legale poter fare l'intermediazione di mano d'opera perché si chiama in un altro modo e hanno fatto la legge così come hanno fatto altre leggi che hanno garantito questo tipo di elemento ora lo dico questo passaggio e faccio questa riflessione che secondo me non è scollegata da quello che stiamo discutendo perché in realtà l'arretramento anche industriale da un certo punto di vista che è venuto avanti e in cui visto che stiamo parlando di Napoli e del mezzogiorno il mezzogiorno sta pagando un prezzo più pesante ancora del resto del paese pur essendo dentro un quadro di arretramento complessivo è chiaro che ha a che fare i conti anche con questo processo e da un certo punto di vista siccome il 2010 e il 2019 sono anche gli anni diciamo così di una crisi che non ha precedenti rispetto alla centralità della finanza e rispetto anche alla redefinizione complessiva del ruolo del lavoro in giro per il mondo perché questa è l'altra cosa che è venuta avanti compreso un arretramento con cui noi siamo chiamati oggi a fare i conti che riguarda anche quello che sta succedendo dentro all'Europa e i processi che in Europa sono messi in campo perché se ci riflettiamo un attimo certo altri paesi e qui veniva ricordato stanno facendo investimenti e stanno facendo politiche industriali di un certo tipo si ricordava quanto sta investendo la Germania ad esempio su tutto sui produttori di quello che sta succedendo ma guardate che c'è un altro tema perché questo modello ed è una delle cose con cui oggi nel rapporto sia con la Cina che con gli Stati Uniti sta venendo fuori è un modello soprattutto quello dell'Europa che si è basato sulle esportazioni veniva indicato anche dagli schemi del professore che ci raccontava questo quadro e uno degli elementi di politica oggi che in un qualche modo pone anche la necessità di ripensare il modello di sviluppo ma che in un qualche modo è un problema grande come una casa che abbiamo anche noi come paese non solo è innovare i prodotti ma da un certo punto di vista se ci pensate il problema è fare ripartire anche i mercati interni che sono bloccati perché il problema anche dell'Europa dalla Germania e non solo e come tu fai ripartire anche i mercati interni e come li fai ripartire dentro a un modello di sviluppo nuovo rispetto a quello che oggi si è realizzato che vuol dire anche ripensare i prodotti ripensare il rapporto con l'ambiente e in questo la mobilità ha una sua forza centrale come elemento perché siamo di fronte al fatto che non solo è cambiata la concezione del prodotto e quindi tu non stai vendendo semplicemente un'auto ma tu stai vendendo il come si costruiscono le città il come si spostano le persone dietro c'è un'idea dei comportamenti della vita delle persone ma dall'altra parte c'è anche un problema che riguarda la sostenibilità delle produzioni che in un qualche modo affronti del resto il problema anche della componentistica che qui veniva indicata con molta forza non solo quella che lavora con FCA ma anche quella che lavora con altre case automobilistiche in Europa tanto più con l'evoluzione delle nuove produzioni noi siamo di fronte al rischio molto concreto che anche quello che era un punto molto avanzato e forte del nostro paese rischi di pagare un prezzo pesantissimo rispetto ai processi che oggi sono in atto insisto non solo quelli che lavorano con FCA ma anche quelli che lavoravano con altri perché quelle catene diciamo di fornitura in un qualche modo oggi rischiano di essere spazzate via per il processo complessivo e in un certo senso assume qui una centralità nuova il problema anche di un intervento di una politica pubblica che rimetta al centro anche un'idea di sviluppo diverso e in questo caso più che mai è necessario rivendicare con forza un ruolo pubblico del governo dentro una mobilitazione generale che vuole rimettere al centro i problemi del lavoro e i problemi della condizione sostanzialmente di lavoro e credo che questo sia senz'altro un obiettivo che noi dobbiamo assumere che dobbiamo far vivere anche nel rapporto con le persone perché quello che sta succedendo è proprio il fatto non solo di scelte o di politiche industriali sbagliate che in realtà ad oggi hanno accompagnato un processo di progressiva aiuto agli azionisti di uscire da determinati settori e da determinati ambiti di iniziativa se la ragioniamo in particolare per quello che riguarda in questo caso FCA e Fiat ma se la guardiamo in senso generale la cosa che veniva descritta anche da molti di voi negli interventi è evidente che il futuro del lavoro oggi passa attraverso anche il tipo di prodotti e di produzione che tu sei in grado di mettere in campo perché il calo del diesel che qui veniva indicato ad oggi sostituito con la benzina nei prossimi anni determina un calo di altra natura perché se sviluppi altre tecnologie e altre forme sei di fronte al fatto che non solo non farai più i motori diesel ma anche altri tipi di alimentazioni e altri sistemi di produzione determinano un cambiamento e in questo caso oggi qui c'è un altro tema di novità che nel rapporto con la politica secondo me va agito con forza è che di nuovo oggi la necessità di un intervento pubblico e di politiche industriali che abbiano anche un ruolo pubblico assuma una forza senza precedenti perché processi di cambiamento anche dei modelli produttivi di questa natura se li lassi fare al mercato vanno da un'altra parte oltre a non essere in grado di poterli realizzare e allora in un certo senso io credo che oggi noi non abbiamo solo da rivendicare diritti in più a chi lavora cosa necessaria e decisiva tanto più in una situazione in cui è palese sotto gli occhi di tutti il peggioramento delle condizioni che c'è stato e l'arretramento con la logica autoritaria che è prevalsa in quella fase lì lo dico banalmente vorrei sempre ricordare a tutti che è prevalsa anche senza mai in realtà mettere nelle condizioni tutto il gruppo di poter votare di poter decidere sui propri accordi perché se la ragioniamo l'altra caratteristica su cui si è utilizzato tutto il processo compreso il passaggio dal contratto specifico dal contratto nazionale al contratto specifico di lavoro vorrei che ce le ricordassimo tutti non è mai stato possibile che quei lavoratori coinvolti avessero la possibilità di decidere loro liberamente se erano d'accordo con quel passaggio lì o se era questa la strada da seguire che l'elemento l'assenza di democrazia e la riduzione della democrazia uno degli altri temi che con molta forza va riproposto dentro a un processo di ricostruzione anche dell'azione contrattuale e dell'azione sindacale quindi da un certo punto di vista a me pare che noi siamo in una fase in cui rimettere al centro con argomenti un'idea anche di qual è il futuro della produzione dell'auto come qui veniva indicato in realtà è un'idea che rimette al centro una discussione su qual è il futuro del sistema industriale e del modello di produzione e di sviluppo nel nostro paese e che necessariamente ha bisogno questo anche di fare in modo che ci siano interlocuzioni politiche che cambiano e assunzioni di responsabilità le mobilitazioni compreso lo siopero del 14 ma anche le mobilitazioni che oggi sono in campo fino alla manifestazione del 22 di giugno a Reggio Calabria non a caso affrontano complessivamente il quadro dagli investimenti alla questione delle infrastrutture alle questioni che riguardano anche lo stato sociale nel nostro paese i diritti delle persone fino a arrivare alle questioni che riguardano l'autonomia differenziata che qui è stata indicata e che rimane un tema io credo decisivo e importante da contrastare così come c'è tutto il tema che riguarda la questione fiscale e i temi che riguardano anche una riforma vera che in questa direzione sia in grado di recuperare quelle risorse che sono necessarie per fare ripartire gli investimenti e per ricostruire un'unità sociale del mondo del lavoro lo dico perché questo considero che sia un altro dei temi che noi dobbiamo far vivere con molta forza nelle prossime settimane e nei prossimi mesi lo dico in questo senso perché e nelle discussioni che si dovranno fare con i lavoratori guardate che c'è una bella contraddizione visto che si va verso la strada anche dei rinnovi dei contratti e c'è una questione salariale no perché vorrei farvi notare che mentre c'è questo processo e c'è questa situazione noi siamo di fronte da un lato a chi un giorno sì e un giorno no dice che dovrebbe fare una legge sui salari minimo per aumentare i salari che detta così chi è che è contrario ad aumentare i salari il punto è che se tu non fai una legge che dice con chiarezza che i contratti nazionali di lavoro sono il riferimento non solo per i salari minimi orari ma anche per tutti i diritti che complessivamente hanno tu in realtà rischi di indebolirlo e dall'altra parte sei di fronte allo stesso governo che dice che vuole da un lato discutere del salario minimo e noi siamo lì pronti a discutere abbiamo fatto le nostre proposte siamo interessati a fare cose serie che vadano nella direzione di applicare i contratti e le leggi ma è lo stesso governo che ad esempio non rinnova i contratti del pubblico impiego e dove lui è controparte non sta mettendo nulla sul tavolo che permetta di aumentare i contratti a partire dai salari dei lavoratori che lui dovrebbe sostanzialmente rappresentare e dall'altra parte se ci pensate questa cosa fa pugni con la proposta della riforma fiscale perché non facciamoci prendere in giro visto che c'è un problema salariale grande come una casa i problemi salariali si affrontano agendo sul versante del fisco e agendo sul rinnovo dei contratti sapendo che in questi anni se ci riflettiamo anche la legislazione che ha agito per cercare di favorire la contrattazione di prossimità o aziendale in alternativa ai contratti nazionali anche sul piano fiscale ha aumentato le diseguaglianze e ha prodotto in realtà delle politiche diverse ma qui c'è un altro punto questa storia della tassa piatta la dico in italiano perché l'inglese non mi viene bene noi dobbiamo dirlo con forza tra i lavoratori e nei luoghi di lavoro che è una presa in giro alle persone oneste che pagano le tasse perché lo dobbiamo cominciare a dire con numeri alla mano e discutendone perché se tu togli la progressività non ridurrai mai le tasse vere ai lavoratori dipendenti ai pensionati che la stanno pagando perché la conseguenza di una riduzione delle tasse visto che la stanno già discutendo è il taglio sociale ulteriore su sanità e su altre cose e da un certo punto di vista i dati che stanno emergendo se li vai a vedere anche dei provvedimenti che hanno fatto tu oggi sei di fronte ad una situazione in cui stanno aumentando le partite IVA e stanno aumentando le partite IVA perché in linea teorica gli raccontano che con il 15% pagano un po' meno di tasse ma se voi li ragionate questo sta determinando che aumentano le forme di lavoro che hanno meno diritti e meno tutele perché a quel punto lì se aumenti il numero di partite IVA anziché fare lavoratori dipendenti aumentano quelli che pagheranno un po' meno di tasse in quella fase lì ma sono quelli che non hanno la malattia che non hanno le ferie che non hanno gli infortuni che non hanno il TFR e che da un certo punto di vista determinano poi una riduzione dei costi per le imprese perché a quel punto lì quelli non hanno neanche gli orari di lavoro e possono essere chiamati quando vogliono pagati come si ritiene più opportuno e da un certo punto di vista siamo di nuovo di fronte ad una politica che non fa altro che incentivare la competizione tra le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare e anche questo è un elemento che va esattamente nella direzione opposta di quello che ci sarebbe bisogno perché fare investimenti sulle nuove tecnologie e sui nuovi modelli di produzione significa anche aumentare gli investimenti certo privati ma anche gli investimenti pubblici perché se c'è un dato badate che un'altra cosa che sta venendo avanti in Europa non solo in Italia è che il nostro paese ma anche l'Europa sono quelli che stanno investendo meno in innovazione ricerca e anche in cultura siamo al punto che se lo confronti con l'Asia l'Europa sta investendo meno in questa direzione rispetto ai paesi asiatici rispetto agli altri paesi e se poi ci pensate che dentro l'Europa ci sono quelli che stanno investendo un po' di più come i tedeschi e quelli che non investono nulla come noi in questa direzione voi capite questo processo sostanzialmente che cosa determina sapendo perfettamente che oggi anche un aumento dei diritti e una possibilità di ridistribuire ricchezza anche al lavoro passa dal fatto come qui veniva ricordato se aumenti il valore aggiunto delle produzioni che tu fai e quindi se aumenta il contenuto è il valore sia tecnologico che diciamo così in senso generale delle produzioni e quindi rivendicare oggi investimenti che vadano in questa direzione con un ruolo anche del pubblico non è semplicemente un modo per parlare d'altro ma è la condizione per rimettere al centro il lavoro e per ragionare rispetto a una ridistribuzione della ricchezza che torni a rimettere al centro il lavoro e la sua condizione e guardate che questi temi io insisto non sono cose diverse perché ad oggi la possibilità non solo di un tavolo che discuta della mobilità ad oggi non c'è la possibilità con questo governo così come è stato con i governi precedenti di discutere di nessuna politica industriale volete che vi faccia degli altri esempi su quello che sta succedendo se pensiamo a quello che hanno fatto con lo sblocca cantieri così come viene chiamato e guardate che siamo di fronte anche qui oltre al fatto che non si capisce cosa ha sbloccato e ogni giorno ne cambiano una ma la logica con cui hanno affermato quelle robe lì sono quelle del massimo ribasso hanno reintrodotto il massimo ribasso negli appalti hanno introdotto la possibilità di aumentare il subappalto hanno reintrodotto il fatto che chi progetta un'opera è lo stesso che la realizza ed è lo stesso che può controllare se quello che ha realizzato e se quello che ha progettato è conforme a quello che doveva fare figuratevi voi cosa è successo quando nel mercato dell'auto hanno lasciato fare a tutti quelli che controllavano se le emissioni erano esatte cosa è successo nel mercato che la gente ha pagato le imprese hanno pagato un sacco di multe perché non ce n'era una che era sotto quella roba lì e se ci pensate uno dei problemi che sta incentivando anche l'auto elettrica è proprio il fatto che a livello europeo ci sono dei limiti di tempo entro il quale se non sei in grado di dimostrare che sei sotto determinati limiti paghi delle multe e siccome nessuno è in grado nei prossimi due tre anni di dire che è in grado di portare il diesel a non inquinare perché era un po' come le bombe intelligenti solo qualcuno non molto intelligente poteva pensare che esistono le bombe intelligenti che non fanno i morti adesso se uno ha la ragione se adesso uno racconta che il diesel può essere così pulito che non inquina capite può inquinare meno adesso diciamola così ma non è che esiste e soprattutto sei di fronte al fatto che perché c'è una spinta in tutto il mondo di investimento verso nuove forme proprio perché sei di fronte al fatto che necessariamente devi misurarti con questo processo con queste caratteristiche e insisto rimanere fuori da questi processi e non avere una dimensione collettiva ma pensare che queste sono cose che tu lasci alle singole imprese vuol dire rinunciare alla possibilità di essere parte del processo più generale perché sappiamo perfettamente che se parliamo di mobilità come è noto non ci sono solo le auto ma ci sono anche i treni ci sono gli autobus come si ricordava ci sono mille altre cose che in un qualche modo determina un elemento di processo di questa natura e quindi rimettere al centro questa discussione ed indicare anche oggi quello che sta avvenendo fatemi dire non è semplicemente per dire che forse avevamo visto giusto e che abbiamo fatto bene nel 2010 a fare quello che abbiamo fatto ok siamo d'accordo oggi c'è qualcosa in più però oggi non c'è solo il problema di dire che forse avevamo capito quello che stava succedendo e che dietro c'era un tentativo di riorganizzazione in assenza di una politica industriale di un certo tipo oggi badate che siamo di fronte al fatto che i processi che oggi sono in atto e che stanno già andando avanti rischiano non solo di mettere in discussione determinati posti di lavoro ma rischiano concretamente di cambiare anche la natura stessa della composizione industriale del nostro paese e a quel punto lì non è che hai un'altra fase in cui lo recuperi se io rivoglio mettere al centro davvero il lavoro oggi necessariamente ho bisogno di avere anche un'idea che intervenga su cosa produco come lo produco con quale sostenibilità e ho bisogno di ricostruire anche una cultura politica che torni ad assumere il lavoro e questa discussione come un elemento centrale che è quello che oggi non sta succedendo e lo possiamo dire con tranquillità non è successo quando c'erano i governi di destra non è successo quando c'erano i governi di sinistra e non sta succedendo neanche adesso quando ci sono i governi con i grillini e con i fascisti dentro come Salvini non sta succedendo neanche adesso perché questo è quello che sta avvenendo è quello che sta succedendo e questa discussione è una discussione che non si fa e io penso che sia molto importante che questa discussione in questa fase pur con tutti i limiti l'unico soggetto che prova a metterla in campo sono le organizzazioni sindacali e io la banalizzo molto ma penso che questo sia un punto decisivo e non tattico perché se noi non ricostruiamo qui c'è il punto se noi non ricostruiamo un'unità sociale del mondo del lavoro qualsiasi altra discussione non porta risultati perché sei alla difesa noi non è che dobbiamo continuare a difenderci semplicemente perché prima o poi finisse come avviene c'è stato il temporale c'è solo da aspettare che spiova perché poi torna il sole non funziona così non funziona così penso io poi non so se lo condividete o no e quindi oggi il processo che noi dobbiamo mettere in campo che si deve porre il problema della ricostruzione dell'unità del mondo del lavoro in tutte le forme con cui il lavoro oggi si esprime e da un certo punto di vista non è sufficiente che questa discussione avvenga semplicemente in Italia ma deve avere necessariamente una dimensione più generale per evitare che ci sia quella competizione che è già in atto tra i lavoratori per i processi che ci sono per i processi che sono in atto quindi fare una discussione di questa natura cioè che devi affermare diritti comuni in Europa e nel mondo del lavoro non è una cosa diversa da rimettere al centro questa discussione perché l'altra banalità e stupidità io credo che oggi viene raccontata perché se uno ci crede davvero allora è bene che studi ancora perché non ha capito ma se la racconta per avere solo dei benefici elettorali ci sta prendendo in giro scusate perché di fronte a processi che hanno una globalità di questa natura uno pensa davvero che la soluzione dei problemi è che ognuno si chiude in casa sua per risolvere i suoi problemi no se uno se uno proprio seriamente è convinto di questa cosa qui mi preoccupa diciamo così no perché penso che sia uno stato di diciamo così molto avanzato di di non capire quello che sta succedendo ma è questo elemento qui guardate che è un punto che va affrontato seriamente e va reso esplicito nella discussione che noi dobbiamo fare perché se vuoi affermare diritti nel lavoro oggi tu devi essere in grado di poter agire come movimento dei lavoratori al livello in cui le decisioni vengono prese e al livello in cui i processi vengono decisi non è né semplice né facile né scontato che ci si possa riuscire ma se non sia chiaro questa cosa noi siamo dentro a uno schema semplicemente di competizione tra lavoratori giriamola come ci pare questo porterà anche a un cambiamento della natura stessa del sindacato e della confederalità perché a quel punto lì scatta il meccanismo che uno pensa di difendersi anche contro qualsiasi altro e non interviene mai sulle ragioni che hanno determinato invece questa competizione sbagliata e i processi oggi hanno questa dimensione se a un certo punto a Mirafiori non hanno fatto quello che hanno fatto e hanno deciso di produrre in Serbia è perché in quella fase lì andare in Serbia costava meno perché non pagavi le tasse costava meno perché ti davano 10.000 euro per ogni dipendente che assumevi costava meno perché non c'è lo stato sociale ma appena è successo che i lavoratori della Serbia si sono battuti hanno detto benissimo vogliamo delle cose si sono mobilitate è immediatamente successo che di fianco alla Serbia ci può essere un'altra Serbia non so se è chiaro perché c'è sempre un punto di fianco a te in cui tu puoi delocalizzare le produzioni se non c'è un processo diverso a partire da quello che puoi realizzare in Europa e se il punto non è la qualità delle produzioni l'innovazione la formazione che fai ma un'altra dimensione e questo questo elemento dovrebbe insegnare a noi e a tutti la necessità di una discussione di altra natura ma anche il ruolo che un governo deve in un qualche modo essere in grado di esercitare perché se non lo fai stai semplicemente lasciando fare alle grandi multinazionali alle grandi imprese alla finanza quello che ritengono più opportuno e tu sei sempre a discutere delle conseguenze dei processi che non sei tu in nessun modo né a discutere né a decidere ma semplicemente a subire allora io penso che questo è un elemento di riflessione che insieme dobbiamo fare non solo per porci il problema di come si riconquista anche per i lavoratori di FCA il diritto ad avere il contratto nazionale il diritto a tutti gli effetti a essere dentro ad una dimensione sindacale che sia uguale al resto dei lavoratori ma da un certo punto di vista oggi questo passaggio ci deve portare anche a riflettere sul perché questi dieci anni di politiche che sono state fatte non hanno solo fatto arretrare i lavoratori perché oggi non siamo solo di fronte al fatto che c'è un peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro dentro agli stabilimenti oggi siamo di fronte al rischio molto concreto non dello spezzatino ma del cambiamento stesso della composizione industriale del lavoro del nostro paese con un arretramento pericoloso che ci può essere in termini anche di sistema più complessivo e da un certo punto di vista rimettere al centro oggi un'iniziativa una mobilitazione che parli alle persone con obiettivi anche concreti ma che sia in grado di ricostruire una solidarietà e un'unità del mondo del lavoro io penso che sia il tema nuovo con cui noi dobbiamo fare i conti anche nelle prossime settimane e penso che sia questo il modo per stare dentro alla discussione e che sia anche questo il modo per portare di nuovo in piazza così come voi state facendo le ragioni del lavoro e in un certo senso soprattutto le ragioni della ricostruzione di un'unità del mondo del lavoro che mi permetto di dire ma non lo dico per battuta ma perché credo davvero che sia un punto che è la condizione per cambiare la condizione e l'unità del mondo del lavoro e la democrazia è la condizione dell'unità del mondo del lavoro è la condizione anche non semplicemente per pensare a un'unità sindacale come somma delle organizzazioni sindacali ma come ricostruire un'unità del mondo del lavoro che va anche oltre che apre gli spazi ad aprire anche un processo diverso e che in un qualche modo è anche l'elemento per ricostruire quella cultura del lavoro che oggi nella politica non c'è e che è stata svenduta per altri valori e per altre logiche che ci sta portando da un'altra parte e mi permetto di dire con tutte le contraddizioni e i problemi che ci sono io sinceramente penso una cosa molto banale se volete e cioè che se non siamo noi che facciamo questa discussione e mettiamo in campo questa iniziativa non c'è nessun altro che per noi fa questa cosa questo a me pare il punto da cui noi dobbiamo partire io mi rendo conto che non è né semplice né facile ma penso che sia a maggior ragione con l'esperienza che si è vissuta assieme anche per le vicende FCA e non solo sia il compito che noi abbiamo e le cose che dobbiamo fare grazie Maurizio Landini segretario generale della CGL ha concluso il convegno seminario auto al bivio convegno che è servito a presentare il rapporto inchiesta su FCA e il futuro dell'automotive nel nostro paese ma questa è stata ancora l'occasione per il segretario generale di corso d'Italia di affrontare il tema della frammentazione del mondo del lavoro e della necessità di riunificare il mondo del lavoro per essere più forti nel contrattare diritti e centralità del lavoro io ringrazio Mauro De Santis qui a San Giovanni a Teduccio a Napoli ringrazio Ivana Marrone e Marianna Lorusso in regia a Roma a loro restituisco la linea non prima di aver ricordato che tra pochissimo anche le conclusioni di Maurizio Landini saranno disponibili in podcast su www.radioarticolo1.it Buon pomeriggio da Roberta Lisi su www.radioarticolo1.it Grazie a tutti